72. La scienza sorride sotto i baffi, ovvero primo incontro esauriente col male. Dobbiamo ora far seguire due parole a proposito di un sorriso, e cioè un sorriso fornito per giunta ad un paio di baffi, fatti apposta per la prerogativa maschile di sorridere sotto i medesimi. Si tratta del sorriso degli scienziati, che erano accorsi all'invito di Diotima e che avevano sentito parlare i famosi letterati ed artisti. Benché sorridessero, non bisogna credere dioguardi che sorridessero ironicamente. Al contrario, era la loro espressione di rispetto ed incompetenza, di cui si è già accennato. Ma neppure questo deve trarre in inganno. Nella loro coscienza era così, ma nel subcosciente, per adoperare questa parola d'uso corrente, e per dir meglio, nel loro stato d'animo collettivo, erano uomini nei quali la tendenza al male rumoreggiava come il fuoco sotto una caldaia. Questo naturalmente sembra un paradosso, e se lo si volesse esporre davanti a un professore d'università, quegli ribatterebbe probabilmente che lui è al servizio della verità e del progresso, ed altro non si cura, perché quella è la sua ideologia professionale. Ma tutte le ideologie professionali sono nobilissime, e i cacciatori, ad esempio, non si sognano certo di definirsi i macellai del bosco. Bensì si proclamano amici degli animali e della natura, esperti nell'arte venatoria, così come i commercianti professano il principio dell'utile onesto, e i ladri hanno lo stesso dio dei commercianti, l'elegante e internazionale Mercurio, congiungitore di popoli. Al quadro di un'attività, nella coscienza di coloro che la esercitano, non bisogna dunque prestar troppa fede. Se ci si chiede senza pregiudizi, come la scienza abbia assunto il suo aspetto attuale, cosa è importante di per sé stessa, perché la scienza regna su di noi, e neppure un'analfabeta si salva dal suo dominio, zacché impara a convivere con innumerevoli cose che sono nate dotte, si ottiene un'immagine alquanto diversa. Secondo tradizioni attendibili, si è cominciato nel XVI secolo, un periodo di fortissimo movimento spirituale, a non più sforzarsi di penetrare i segreti della natura, come era successo fino allora in due millenni di speculazione religiosa e filosofica, bensì ad accontentarsi di esplorarne la superficie, in un modo che non si può fare a meno di chiamare superficiale. Il grande Galileo Galilei, ad esempio, il primo nome che sempre si cita a questo proposito, tolse di mezzo il problema. Per quale causa intrinseca la natura abbia orrore degli spazi vuoti, così da obbligare un corpo che cade ad attraversare spazi su spazi, finché esso giunge su un terreno solido. E si accontentò di una constatazione molto più volgare. Stabilì semplicemente la velocità di quel corpo che cade, la via che percorre, il tempo che impiega, e l'accelerazione della caduta. La Chiesa Cattolica ha commesso un grave errore, minacciando la morte di un tal uomo e costringendolo alla ritrattazione, invece di ammazzarlo senza tanti complimenti. Perché il suo modo e quello dei suoi simili di considerare le cose, ha poi dato origine, in brevissimo tempo, se usiamo la misura della storia, agli orari ferroviari, alle macchine utensili, alla psicologia fisiologica e alla corruzione morale del tempo presente. E ormai non può più porvi rimedio. Probabilmente ha commesso quest'errore per troppa prudenza, da che Galileo non era soltanto lo scopritore del moto della terra e della legge della caduta dei gravi, ma era anche un inventore, al quale si interessava, come si direbbe oggi, il gran capitale. E inoltre non era l'unico che fosse pervaso allora dallo spirito nuovo. Al contrario, la storia ci insegna come il freddo positivismo, che lo animava, si diffondesse violento e disordinato come un'epidemia e, per quanto possa essere urtante sentir dire, quasi vanto che uno era animato dal freddo positivismo mentre ci sembra di averne già fin troppo. A quel tempo, il risveglio della metafisica, per darsi al severo esame delle cose secondo differenti testimonianze, deve essere stato addirittura un fuoco, un'ebbrezza di positività. Ma se si si chiede come mai fosse venuto in mente all'umanità di cambiare così, ecco la risposta. L'umanità fece semplicemente quello che fanno tutti i bambini di buonsenso che si sono provati troppo presto a camminare. Si sedette per terra e la toccò con una parte del corpo non molto nobile, ma sicura, diciamolo pure, con quella parte su cui ci si siede. Lo strano è che la terra si sia mostrata così sensibile a quel contatto sì da lasciarsi strappare cognizioni, scoperte e comodità in un'abbondanza che ha del miracoloso. Dopo tali antecedenti, si potrebbe sostenere non interamente a torto che ci troviamo nel bel mezzo del miracolo dell'anticristo, perché la similitudine del contatto con la terra non si deve interpretare solo nel senso della sicurezza, ma anche in quello dell'indecoroso e dell'illecito. E in verità, prima che il mondo intellettuale scoprisse la sua passione per i fatti materiali, questa passione era propria soltanto dei guerrieri, dei cacciatori e dei mercanti, cioè dei temperamenti astuti e violenti. Nella lotta per la vita non vi sono sentimentalismi speculativi, ma soltanto il desiderio di ammazzare il nemico nel modo più rapido e più reale. Ognuno, in tal caso, è positivista. Così negli affari non sarebbe una virtù lasciarsi mistificare invece di andare al sicuro, là dove il guadagno in ultima analisi costituisce una sopraffazione psicologica dell'avversario derivante dalle circostanze. Se d'altra parte guardiamo quali siano le qualità che conducono a invenzioni e scoperte, troviamo libertà da scrupoli e riguardi tradizionali, spirito di iniziativa e di distruzione in uguale quantità, esclusioni di considerazioni morali, paziente mercanteggiamento del minimo vantaggio, tenace attesa sulla via del successo, se è necessario, e un rispetto per il numero e per la misura che è l'espressione più acuta della diffidenza di fronte a ogni cosa incerta. In altre parole, non troviamo nient'altro che gli antichi vizi dei cacciatori, dei soldati e dei mercanti, trasportati qui sul piano intellettuale e nuovamente interpretati come virtù. Ed è vero che così restano al di sopra della corsa al vile vantaggio personale, ma l'elemento del male originale, come si potrebbe chiamarlo, non scompare nemmeno mediante questa trasformazione, perché a quanto pare è indistruttibile ed eterno, almeno eterno quanto tutte le grandezze umane, perché è precisamente ed esclusivamente il piacere di dar lo sgambetto a quelle grandezze e di vederle battere il naso per terra. Chi non ha provato almeno una volta, contemplando un bel vaso di vetro iridascente, la seduzione del pensiero che con una bastonata lo si potrebbe mandare in mille pezzi, elevato all'eroismo dell'amara persuasione che in questo mondo non ci si può affidare di nulla che non sia ben fermo al chiodo, questo è un sentimento fondamentale incluso nella positività della scienza e se per rispetto non lo si vuol chiamare il diavolo, bisogna almeno dire che puzza lievemente di zolfo. Possiamo incominciare subito dalla bizzarra predilezione del pensiero scientifico per le definizioni meccaniche, statistiche, materiali alle quali è stato come è cavato il cuore, considerare la bontà soltanto come una forma particolare di egoismo, attribuire i moti dell'animo alle secrezioni interne, stabilire che l'uomo è fatto per otto o nove decimi di acqua, dichiarare che la famosa libertà morale del carattere è un automatico fenomeno accessorio del libero scambio, far dipendere la bellezza dalla buona digestione da un ben distribuito pannicolo adiposo, ricavare i dati statistici delle nascite e dei suicidi, entrando come ciò che appare liberissima decisione sia invece inesorabilmente imposto. Rilevare l'affinità fra l'ebbrezza e l'alienazione mentale, equiparare l'ano e la bocca come le estremità rettale e orale della stessa cosa. Tutti questi concetti, che in un certo senso svelano il trucco nel gioco delle illusioni umane, trovano sempre una specie di preconcetto favorevole per acquistare una specie di validità scientifica. Certo si ama e si ricerca la verità, ma intorno a quel lucido amore c'è tutta una preferenza per la delusione, per la coercizione, l'inesorabilità, la fredda minaccia o l'asciutta censura, una preferenza diabolica o almeno un'involontaria irradiazione di sentimenti del genere. In altre parole, la voce della verità si accompagna a un rumore accessorio sospetto, ma gli interessati non vogliono sentirlo, Ora, la psicologia odierna conosce molti di questi soffocati rumori accessori e consiglia di scoprirli e di renderli chiari quanto più è possibile per impedirne l'effetto nocivo. Ma che cosa succederebbe se si volesse fare la prova? Si cedesse alla tentazione di mettere in evidenza l'equivoco piacere delle verità e delle sue maligne voci secondarie, la misantropica e la satanica, per metterle fiduciosamente nella vita. Ebbene, ne risulterebbe all'incirca quella mancanza di idealismo che abbiamo già descritto sotto il titolo utopia della vita esatta, la mentalità dell'esperimento e della viura, ma sottoposto alla legge marziale e ferrea della conquista spirituale. Questa posizione, nei processi formativi della vita, non è certo quella curativa e pacificatrice. non considererebbe con riverenza ciò che è degno di vivere, ma lo vedrebbe piuttosto come una linea di confine che la lotta per la verità interiore sposta incessantemente. Metterebbe in dubbio la santità della condizione attuale del mondo, ma non per scetticismo, bensì per mentalità ascensionistica, in cui il piedefermo è anche il più basso. E nel fuoco di una simile ecclesia militans, che odia la dottrina a cagione di ciò che non è ancora rivelato e getta in un canto leggi e valori in nome di un esigentissimo amore per la loro forma futura, il diavolo ritroverebbe il cammino verso Dio, oppure, in parole più semplici, la verità sarebbe allora di nuovo sorella della virtù e non dovrebbe più commettere contro di lei le subdole cattiverie che scogita una giovane nipote a danno di una zia zitellona. Tutto questo, più o meno consapevolmente, un giovane assimila nelle aule del sapere e impara per giunta a conoscere gli elementi di una vasta mentalità costruttiva che mette insieme senza fatica cose lontanissime come un sasso che cade e una stella che rota e scompone in correnti le cui scaturigini distano fra loro di millenni le cose che sembrano unite e indivisibili come il sorgere di una semplice azione dai centri della coscienza. Se a qualcuno venisse in mente di far uso di una mentalità in tal modo acquisita fuori dei limiti di speciali competenze gli farebbe subito intendere che le esigenze della vita sono diverse da quelle del pensiero. Nella vita succede pressapoco il contrario di tutto ciò che uno spirito coltivato saspetterebbe. Le differenze e affinità naturali sono altamente apprezzate. Ciò che esiste sia come vuole viene considerato naturale fino a un certo grado e non lo si intacca volentieri. I cambiamenti che diventano necessari si eseguono con titubanza e quasi un procedimento a zigzag. E se qualcuno per puri sentimenti vegetariani desse del lei a una mucca in giusta considerazione del fatto che è più facile comportarsi senza riguardo con un essere che si tratta col tu si direbbe che è uno stupido se non un pazzo ma non per le sue tendenze zoofile e vegetariane che sono considerate molto lodevoli ma sì per la loro immediata traduzione in realtà. Insomma fra lo spirito e la vita c'è un bilancio complicato in cui lo spirito ottiene al massimo il pagamento di mezzo per mille dei suoi crediti e in compenso si fregia del titolo di creditore onorario. Se però lo spirito nella forma possente che ha assunto per ultima come abbiamo più sopra argomentato è un giovane santo molto virile con virtù complementari guerriere e venatorie si dovrebbe concludere dalle circostanze descritte che la tendenza all'impietà in lui latente non può mai rompere nella sua pur grandiosa interezza ne trova occasione di purificarsi attraverso la realtà e quindi la si incontrerebbe lungo cammini diversi stranissimi e incontrollati dovesse sfugge allo sterile isolamento lasciamo indeciso se tutto ciò sia stato finora un gioco dell'immaginazione oppure no tuttavia non si può negare che quest'ultima ipotesi abbia la sua singolare conferma ma è un oscuro atteggiamento vitale che non pochi uomini hanno oggi nel sangue un'aspettazione del peggio una disposizione al tumulto una diffidenza verso tutto ciò che si venera vi sono uomini che deplorano la mancanza di ideali della gioventù ma al momento in cui debbono agire non decidono diversamente da chi per un savio scetticismo verso l'idea né corrobora le forze modeste mediante l'effetto di un qualsiasi randello detto altrimenti esiste un pio scopo che non debba armarsi di un po' di corruzione e far calcolo sulle più basse qualità umane per essere rispettato e preso sul serio in questo mondo parole come legare costringere dare un giro di vite non aver paura dei vetri rotti maniera forte hanno un suono gradevole e convincente idee come quella che il grande ingegno ficcato in una caserma entro otto giorni impari a scattare alla voce di un caporale oppure che un tenente e otto uomini bastino per arrestare tutti i parlamentari del mondo hanno trovato solo più tardi la loro espressione classica nella scoperta che con qualche cucchiaio d'olio di ricino fatto sorbire a un idealista si possono rendere ridicole le più incrollabili convinzioni ma da molto tempo quantunque ripudiate con indignazione avevano il mordente selvaggio di certi sogni inquietanti è un fatto che almeno il secondo pensiero di ciascun uomo posto davanti a una manifestazione soverchiante sia pure una visione di bellezza è oggi il seguente non me la dai a bere ti metterò a posto io e questa smania di rimpicciolire tutto che domina un secolo aizzato e aizzante non è quasi più la naturale divisione della vita in volgarità e nobiltà ma piuttosto un autolesionismo dello spirito un inqualificabile piacere di vedere il bene abbassarsi e lasciarsi distruggere con meravigliosa facilità non è dissimile da un'appassionata volontà di smentire se stessi e forse non è la cosa più sconsolante aver fede in un secolo che si è presentato al mondo in posizione podalica e ha solo bisogno di essere rivoltato per mano del creatore un sorriso maschile esprimerà dunque parecchie cose di questo genere anche se si sottrae a un autoesame o se addirittura non è mai passato attraverso la coscienza e di tale natura era il sorriso col quale la maggior parte delle celebrità invitate si sottomettevano ai lodevoli sforzi di Diotima principiava con un solletico nelle gambe le quali non sapevano bene dove volgersi e approdava sul viso in aspetto di benigno stupore era un sollievo vedere un collega o un conoscente e attaccare discorso si sentiva che andando via appena usciti dal portone si sarebbero fatti due o tre lunghi passi energici per prova ma il trattenimento non c'è che dire era proprio bello queste larghe iniziative certo sono qualcosa a cui è impossibile dare un vero contenuto come del resto tutte le idee sublime e universali perfino un cane è già difficile da immaginare perché è solo un accenno a vari cani e qualità canine e il patriottismo o la più bella e la più patriottica delle idee poi non si possono immaginare assolutamente ma se anche questo è privo di contenuto ha però un significato ed è certo un'ottima cosa risuscitare questo significato di tanto in tanto così ragionavano fra loro le celebrità a dire il vero più che altro nel tacito subcosciente di ottima però che stava ancora nel salone principale ad accogliere i ritardatari udiva vagamente con stupore conversazioni vivaci allacciarsi intorno a lei in cui se l'udito non l'ingannava si discutevano le differenze fra la birra boema e quella bavarese e cifre di compensi editoriali le percotevano l'orecchio era un peccato che lei non potesse vedere il suo ricevimento anche dalla strada di là appariva meraviglioso la luce splendeva chiara attraverso le tende dell'alta fila di finestre accresciuta dal fasto e dall'autorità delle carrozze in attesa e dall'ammirazione dei curiosi che si fermavano e guardavano in su per un poco senza saper bene perché di ottima ne avrebbe avuto piacere se lo avesse saputo era sempre gente nella mezzaluce che la festa versava sulla strada e alle loro spalle incominciava la grande oscurità che a qualche distanza diventava già impenetrabile Gerda la figlia di Leo Fischel preso da quell'ingranaggio Ulrich per un pezzo non trovò il tempo di mantenere la promessa fatta al direttore Fischel anzi a dire il vero non l'avrebbe trovato mai se non fosse stato per un avvenimento inaspettato la visita della moglie di Fischel Clementine sarà annunciata per telefono e Ulrich l'attendeva non senza preoccupazione era stato da lei l'ultima volta tre anni prima quando aveva passato qualche mese a Vienna le aveva fatto un'unica visita perché non voleva ridestare un amoretto passato e temeva la delusione materna della signora Clementine ma Clementine Fischel era una donna di cuore magnanimo che nelle schermaglie quotidiane col marito aveva così poche occasioni di dimostrarlo che per i casi speciali purtroppo rari disponeva di una nobiltà di sentire addirittura prossima l'eroismo tuttavia la magra signora dal volto severo un po' afflitto si sentì alquanto a disagio quando si trovò di fronte a Ulrich e gli chiese un colloquio a quattro occhi benché fossero già soli ma lui era l'unica persona di cui Gerda avrebbe ascoltato il consiglio e la disse e poi soggiunse che lo pregava di non fraintendere la sua richiesta Ulrich conosceva la situazione in casa Fischel non soltanto padre e madre erano sempre in guerra fra loro ma la ventitreenne Gerda si era circondata in uno sciame di strani giovanotti che avevano fatto del recalcitrante papà Leo contro ogni sua voglia il mecenate e il promotore del loro spirito nuovo perché in nessun posto ci si poteva riunire così comodamente come in casa sua Gerda era anemica e nervosa e si inquietava in modo terribile quando si tentava di limitare quella di rivestire vieni riferì la signora Clementine e in fin dei conti non erano che ragazzi sciocchi senza educazione ma l'antisemitismo mistico che deliberatamente sfoggiavano non era soltanto indelicato era anche un segno di volgarità no e la soggiunse lei non voleva incriminare l'antisemitismo era un fenomeno attuale e bisognava rassegnarci si si poteva anche concedere che sotto certi riguardi non avevano torto Clementine fece una pausa e si sarebbe asciugata una lacrima col fazzoletto se non avesse avuto il velo abbassato così fece a meno di sparger lacrime e si accontentò di tirar fuori dalla borsetta il fazzolettino bianco ne sa come Gerda sospirò una bella ragazza intelligente ma un po' brusca completò Ulrich si purtroppo sempre così eccessiva e dunque sempre tanto entusiasta del germanesimo Clementine si dilungò sui sentimenti dei genitori un atto d'amore materno e la definì alquanto pateticamente la propria visita che aveva il secondo fine di riattirare Ulrich in casa sua ora che si era sparsa la voce del suo enorme successo nell'azione parallela vorrei castigarmi con le mie mani e la proseguì per aver favorito queste relazioni negli ultimi anni contro il volere di Leo non ci vedevo nulla di male quei giovanotti a modo loro sono degli idealisti e chi non ha pregiudizi deve pur sapere affrontare talvolta una parola offensiva ma Leo lei sa com'è l'antisemitismo fa una gran rabbia che sia soltanto mistico simbolico oppure no e Gerda nella sua natura di germana bionda non vuole ammettere il problema commentò Ulrich in questo è come ero io pure da giovane mi dica crede che Hans Sepp abbia un bel avvenire Gerda è fidanzata con lui domandò Ulrich prudentemente quel ragazzo non ha la minima probabilità di farsi una posizione sospirò Clementine come si può parlare di fidanzamento ma quando Leo lo mise alla porta Gerda per tre settimane non mangiò quasi nulla era ridotta a pelle e ossa ed improvviso aggiunse stizzosa sa a me sembra una specie di ipnosi una infezione morale sì Gerda qualche volta sembra suggestionata il giovanotto in casa nostra non smette mai di sfoderare le sue opinioni e Gerda non si accorge che è un'offesa continua ai suoi genitori sebbene sia sempre stata per tutto il resto una figlia buona e affettuosa e se io le dico qualcosa mi risponde come sei antiquata mamma io ho pensato lei è l'unico per cui Gerda abbia un po' di stima e Leo poi la tiene in gran conto non potrebbe venire una volta da noi e aprire gli occhi a Gerda sull'immaturità di Hans e dei suoi compagni poiché Clementine era sempre molto corretta e questo invece era un colpo mancino doveva avere cruci assai gravi nonostante i contrasti ella in questo caso sentiva qualcosa come una responsabilità insolido col marito Ulrich corrugò la fronte preoccupato temo che Gerda giudichiera a me una vecchia mummia i giovani d'oggi non ascoltano noi anziani e queste sono questioni di principio pensavo che il modo migliore per sviare i pensieri di Gerda sarebbe se lei le trovasse qualcosa da fare in quella grande azione patriottica di cui si parla tanto insirmò Clementine e Ulrich si affrettò a prometterle una visita avvertendola però che l'azione parallela era ancora ben lontana dal potersi concedere una simile collaborazione quando Gerda lo vide entrare pochi giorni dopo due macchie rotonde le imporporarono le guance tuttavia gli andò incontro e gli strinse calorosamente la mano ella era una di quelle deliziose ragazze moderne sicure di sé capace di diventare su due piedi guidatrici d'autobus se l'idea lo richiede Ulrich non si era ingannato supponendo che l'avrebbe trovata sola a quell'ora la mamma faceva commissioni e papà era ancora all'ufficio e Ulrich si era appena inoltrato di qualche passo nella stanza che già tutto gli ricordava con straordinaria vivezza una sua visita ormai lontana veramente quell'altra volta l'anno contava già alcune settimane di più era primavera ma una di quelle giornate caldissime che talvolta precedono l'estate come fiocchi di fuoco e sono mal sopportati dai corpi non ancora a suoi fatti il viso di Gerda appariva smunto e ostile ella era vestita di bianco e odorava di bianco come lino asciugato sui prati le tende erano abbassate in tutte le stanze e l'abitazione era in penombra rotta da strati di calore ribelli che bucavano con punte spezzate la grigia massa opaca ad Ulrich sembrava che Gerda fosse tutta fatta di strati di lino lavato di fresco come il suo vestito era una sensazione completamente oggettiva ed egli avrebbe potuto sollevare a uno a uno tutti quegli strati senza bisogno del minimo impulso amoroso ed ecco che adesso provava di nuovo la stessa sensazione era una intimità apparentemente naturale ma senza scopo ed entrambi ne avevano paura perché non è mai più venuto a trovarci domandò Gerda Ulrich le disse francamente che aveva avuto l'impressione che i genitori non gradissero una frequentazione così assidua senza lo scopo di un matrimonio oh la mamma disse Gerda la mamma è ridicola dunque non possiamo essere amici senza pensare subito a quello ma papà desidera che lei venga più spesso pare che lei sia diventato un pezzo grosso di quella faccenda patriottica aveva spiatellato apertamente gli stupidi progetti dai vecchi convinta dell'alleanza naturale che legava loro due a sventarli verrò rispose Ulrich ma mi dica lei Gerda dove si andrà a finire il fatto era che non si amavano tempo innanzi avevano giocato a tennis insieme si erano incontrati in società erano andati a passeggio avevano sentito profondo interesse l'uno per l'altro e così senza rendersene conto avevano varcato la frontiera che separa una persona intima a cui ci si mostra come si è nel proprio disordine sentimentale da tutti gli altri per i quali ci si fa belli all'improvviso si erano trovati nella confidenza di due che si amano da molto tempo anzi che non si amano quasi più ma però dall'amore si erano dispensati a volte litigavano da far credere che non si potessero soffrire ma questo era allo stesso tempo ostacolo e legame sapevano che mancava appena una piccola favilla per accendere il fuoco se la differenza d'età fosse stata minore oppure Gerda avesse avuto un marito probabilmente l'occasione avrebbe fatto il ladro e il furto si sarebbe trasformato almeno più tardi in passione perché ci si accende via più nell'amore come nell'ira quando se ne compiono i gesti ma appunto perché lo sapevano non lo facevano Gerda era rimasta fanciulla e se ne irritava frequentemente invece di rispondere alla domanda di Ulrich si era data da fare nella stanza e a un tratto egli le si trovò vicino questa era un'imprudenza perché non si può in un momento simile star vicino a una ragazza e incominciare un discorso essi seguirono la via della resistenza minima come un ruscello che evitando gli ostacoli scorre giù per un prato e Ulrich mise un braccio intorno ai fianchi di Gerda raggiungendo con la punta delle dita la linea discendente descritta dal nastro interno del reggi calze si volse verso la faccia di Gerda stravolta e sudata e la baciò sulle labbra poi rimasero lì senza potersi sciogliere né congiungere le dita di lui trovarono il largo elastico della giarrettiera e lo fecero schioccare due o tre volte piano contro la gamba finalmente egli la lasciò e ripeté la sua domanda scrollando le spalle dove si va a finire Gerda Gerda dominò il suo turbamento e disse è proprio inevitabile suonò il campanello e fece portare un rinfresco mise in moto la casa mi parli un po' di Hans propose Ulrich dolcemente quando si furono seduti e bisogna intavolare un altro discorso Gerda che non si era ancora interamente ripresa non rispose subito ma poi disse lei è un uomo frivolo non capirà mai noi più giovani metter paura non vale ribatte Ulrich credo Gerda che ormai rinunzierò alla scienza dunque passo alla nuova generazione le basta se le giuro che la scienza è parente della cupidisa che rappresenta un sordito istinto di parsimonia che è un presuntuoso capitalismo morale ho più sentimento che lei non creda ma vorrei metterla in guardia contro tutti i discorsi che sono soltanto parole lei dovrebbe conoscere meglio Hans rispose Gerda fiaccamente ma poi soggiunse con improvvisa vehemenza del resto non capirà mai che ci si possa fondere con altri in una comunanza senza egoismo Hans viene ancora sovente a trovarla insiste Ulrich con cautela Gerda alzò le spalle i suoi prudenti genitori non avevano mai chiuso definitivamente la porta in faccia ad Hans Sepp ma gli permettevano soltanto qualche visita al mese in compenso lo studente che non era nulla e non aveva ancora nessuna probabilità di diventare qualcosa aveva dovuto dare la sua parola d'onore che non avrebbe indotto al male la ragazza e che avrebbe smesso di far propaganda per l'azione mistica tedesca essi speravano così di togliergli il fascino di ciò che è proibito e Hans Sepp nella sua prudenza perché solo la sensualità aspira al possesso ma è giudaico capitalistica aveva dato tranquillamente la promessa richiesta che per lui non comportava però la rinuncia a venire sovente in casa di nascosto a fare discorsi roventi a scambiare frenetiche strette di mano e anche baci cose tutte che fan parte della vita naturale di anime e amiche ma soltanto la rinuncia a pretendere che Gerda si unisse a lui in libera unione secondo le teorie da lui professate e tanto più volentieri aveva impegnato la sua parola d'onore in quanto non stimava ancora raggiunta in se stesso e in Gerda la maturità spirituale per la traduzione in atto dei suoi principi e un catenaccio contro i suggerimenti dell'infima natura era quello che ci voleva ma i due giovani soffrivano naturalmente di una costrizione che poneva loro un limite dall'esterno prima ancora che essi ne avessero trovato uno proprio interiore soprattutto Gerda non avrebbe tollerato quell'intrusione dei genitori se non fosse stata incerta lei stessa ma ne provava tanta più amarezza in fondo non amava più il suo giovane amico soprattutto era il contrasto con i suoi genitori che la traduceva in affetto per lui se Gerda fosse nata qualche anno più tardi suo padre sarebbe stato uno degli uomini più ricchi di Vienna anche se non particolarmente illustre e sua madre l'avrebbe di nuovo ammirato prima che Gerda potesse trovarsi nella situazione di sentire i dissidi dei suoi genitori come un proprio intimo conflitto allora probabilmente sarebbe stata orgogliosa del suo sangue misto così invece era ostile ai genitori e ai loro problemi si ribellava all'onta ereditaria che le avevano trasmessa ed era bionda libera tedesca e forte come se non avesse niente da fare con loro tutto questo appariva bello e buono ma aveva lo svantaggio di non averle mai permesso di mettere fuori il tarlo che la rodeva in casa sua il fatto che esistessero il nazionalismo e l'ideologia razziale non veniva mai ammesso anche se coinvolgevano mezza Europa in un groviglio di isterismi ciò che Gerta ne sapeva era giunto dal di fuori nelle forme oscure dei si dice come accenno ed esagerazione e l'era subito rimasta colpita dal fatto contradditorio che i suoi genitori sempre fortemente risettivi a ciò che è detto da molta gente facessero in questo caso una curiosa eccezione e poiché non trovava una soluzione chiara e sensata di quell'allucinante problema vi riconnetteva soprattutto negli anni dell'adolescenza tutto ciò che in casa dei suoi genitori le sembrava sgradevole e sconcertante un giorno fu accolta nel circolo giovanile cristiano germanico a cui Hans Sepp apparteneva e si sentì subito nel suo vero elemento sarebbe difficile dire a che cosa credessero quei giovani formavano una di quelle innumerevoli ristrette liberissime sette di cui la gioventù tedesca formicola dopo la decadenza dell'ideale umanistico non erano antisemiti per ragioni razziali ma nemici della mentalità giudaica per cui intendevano capitalismo e socialismo scienza ragione autorità paterna calcol psicologia e scetticismo il pezzo forte della loro dottrina era il simbolo per quello che Ulrich aveva potuto capirne e aveva parecchia comprensione per simili cose chiamavano simbolo le grandi manifestazioni della grazia che sciolgono e risanano ciò che è aggrovigliato e imbastardito come diceva Hans Sepp e fan tacere il rumore dai sensi e bagnano la fronte con le acque dell'altra riva i simboli erano l'altare di Isenheim le piramidi egizie e Novalis Beethoven e Stefan Georg valevano come accenni ma quel che fosse un simbolo in parole sobrie non lo dicevano in primo luogo perché i simboli non si possono esprimere in parole sobrie in secondo luogo perché gli ari non possono essere sobri ragion per cui nell'ultimo secolo non sono riusciti a formulare chi ha cenni di simboli e in terzo luogo perché vi sono secoli che solo raramente producono l'extraumano momento della grazia in uomini extraumani Gerda che era una ragazza intelligente dentro di sé provava non poca diffidenza contro quelle concezioni estreme ma diffidava anche della sua diffidenza in cui credeva di riconoscere l'eredità della ragione paterna pur fingendosi indipendente si dava un'enorme premura di non obbedire ai genitori e l'opprimeva il timore che la sua origine potesse impedirle di seguire le idee di Hans si irritava profondamente contro il tabù della morale borghese professata nelle buone famiglie contro l'usurpato diritto che i genitori si arrogano di violare la personalità dei figli mentre Hans che non era di nessuna famiglia né buona né cattiva come diceva la mamma ne soffriva molto meno come guida spirituale di Gerda era emerso dall'ambiente dei compagni aveva appassionati colloqui con l'amica coetanea e cercava di innalzarla alle regioni dell'assoluto con le sue grandi dissertazioni accompagnate da baci ma in pratica si adattava abilmente alla relatività di casa Fischel purché gli fosse permesso rifiutarla per principio il che a dire il vero dava e continua esca a scenate con papà Leo cara Gerda disse Ulrich dopo un po' i suoi amici la tormentano a proposito di suo padre e sono i più sfacciati sfruttatori che io conosca Gerda diventò rossa e poi pallida lei non è più abbastanza giovane replicò lei pensa diverso da noi sapeva di aver ferito la vanità di Ulrich e aggiunse in tono conciliante io non ho poi questo enorme concetto dell'amore forse perdo il tempo con Hans come lei dice forse dovrò addirittura rinunziare e non vorrò mai tanto bene ad un uomo da potergli aprire tutte le pieghe della mia anima nel pensiero nel sentimento nel lavoro e nel sogno beh non credo che sia poi una cosa terribile lei è così pedante Gerda quando parla con i suoi amici l'interruppe Ulrich Gerda andò sulle furie quando parlo con i miei amici gridò i pensieri vanno dall'uno all'altro e sappiamo di vivere e di parlare fra la nostra gente lo capisce lei o non lo capisce siamo fra innumerevoli affini e lo sentiamo lo sentiamo fisicamente in un modo che lei certo no che lei certo non può neanche immaginare perché lei il desiderio lo ha sempre sentito per una persona sola lei ragiona come le bestie feroci perché le bestie feroci la frase sleale insidiosa rimasta nell'aria sembrò anche a lei priva di senso ed ella si vergognò dei suoi occhi che spalancati e sgomenti erano fissi su Ulrich non voglio rispondere disse Ulrich dolcemente per cambiare discorso le racconterà una storia piuttosto conosce e con una mano in cui il polso di lei scompariva come un bambino fra le rupi di un monte se la tirò di nuovo accanto l'appassionante storia della cattura delle lune lei sa vero che la nostra terra una volta aveva parecchie lune è una teoria che a molti seguaci afferma che quei satelliti non sono come noi crediamo corpi celesti raffreddati come la terra stessa ma grandi sfere di ghiaccio filanti negli spazi siderei che sono venuti troppo vicino alla terra e sono rimasti presi la nostra luna sarebbe l'ultima catturata la guardi Gerda l'aveva seguito e cercava nel cielo assolato la pallida luna non sembra un disco di ghiaccio chiese Urich quella non è luce si è mai chiesta come mai la luna ci presenti sempre la stessa faccia non gira più la nostra ultima luna si è arrestata vede da quando la luna è caduta in potere della terra ma ne è attirata lentamente inesorabilmente noi però non ce ne accorgiamo perché quell'avvicinamento dura millenni o anche di più ma è innegabile e nella storia del cosmo devono esserci state epoche in cui le lune precedenti erano attratte verso la terra e le giravano attorno in corsa vertiginosa e come oggi la luna suscita una marea alta un metro o due così allora trascinava intorno alla terra a velocità folle un muro d'acqua e di fango alto come una montagna è difficile immaginare il terrore in cui devono essere vissute le generazioni umane di quella età sulla terra impazzita c'erano già gli uomini allora chiese Gerda certamente alla fine poi la luna di ghiaccio va in frantumi e precipita e la marea immensa che essa trascina con sé ricade e si abbatte in una ondata mostruosa su tutta la terra prima di tornare al suo posto e questo altro non è che il diluvio la grande inondazione universale come potrebbero tutte le saghe tramandarne concordamenti il racconto se gli uomini non l'avessero davvero vissuto e da che abbiamo ancora una luna un altro diluvio universale verrà è strano pensarci Gerda col fiato sospeso guardò la luna lassù dietro i vetri Ulrich le teneva ancora la mano la luna era una brutta macchia sbiadita nel cielo e proprio quella smorta presenza dava alla fantastica avventura del mondo di cui anche ella in qualche modo si sentiva vittima una semplice realtà ad ogni giorno la storia però non è affatto vera disse Ulrich i competenti dicono che è una teoria assurda e in verità la luna non si avvicina alla terra ma ne dista 32 chilometri più di quanto è stato calcolato se ricordo bene e allora perché me l'ha raccontata disse Gerda cercando di ritirare la mano ma la sua ribellione aveva perduto ogni forza le succedeva sempre così quando parlava con un uomo che non era certo più sciocco di Hans ma aveva opinioni senza esagerazioni unghie pulite e capelli raviati Ulrich osservò la fine peluria bruna che cresceva come una protesta sulla pelle bionda di Gerda la poliedrica complessità delle povere creature d'oggi sembrava trasudare dal suo corpo con quella lanugine non lo so rispose devo tornare Gerda scaricò l'agitazione della sua mano ridivenuta libera su svariati piccoli oggetti che spostò in qua in là e non replicò nulla allora tornerà presto promise Ulrich sebbene prima della visita avesse stabilito il contrario 74 il quarto secolo avanti Cristo contro l'anno 1797 Ulrich riceve un'altra lettera di suo padre si era sparsa rapidamente la voce che le riunioni in casa di Diotima avevano un successo straordinario in quel periodo Ulrich ricevette un'altra lettera di suo padre straordinariamente lunga alla quale era accluso un grosso plico di opuscoli e di estratti nella lettera era scritto all'incirca mio caro figlio il tuo lungo silenzio tuttavia ho udito con piacere da terzi che le mie fatiche in tuo favore il mio benevolo amico il conte Stalburg sua signoria il conte Leinsdorf la nostra parente la consorte del capodivisione Tuzzi la ragione per cui oggi devo pregarti di usare di tutto il tuo influsso nella nuova cerchia dei tuoi conoscenti è la seguente il mondo andrebbe in pezzi se si dovesse ritenere vero tutto ciò che passa per tale e permessa ogni volontà che tale si crede è quindi dovere di noi tutti stabilire l'unica verità e la volontà lecita e ottenuto questo vagliare con inesorabile senso di responsabilità affinché ciò sia depositato anche nella chiara forma dell'opinione scientifica ne puoi inferire il significato di quanto passo a comunicarti negli ambienti profani ma purtroppo anche in quelli scientifici che soggiacciono alle insinuazioni di un secolo traviato è sorto da tempo un movimento estremamente pericoloso allo scopo di introdurre nella relazione del nostro codice penale alcuni pretesi miglioramenti e alleviamenti devo premettere che questo compito di revisione è stato affidato qualche anno fa ad una commissione di noti specialisti alla quale ho l'onore di appartenere come pure del mio collega universitario il professor Schwung del quale forse serve in memoria dal tempo in cui non avevo ancora veduto chiaro in lui così che lo considerai per lunghi anni uno dei miei migliori amici per quanto riguarda gli alleviamenti di qui sopra ho appreso finora soltanto sotto forma di dicerie ma la cosa è disgraziatamente fin troppo probabile che per il prossimo giubileo del nostro venerato e benigno sovrano si intende sfruttando per così dire l'atmosfera di generosità e di indulgenza far tutti gli sforzi per ottenere un nefasto addolcimento delle nostre norme giuridiche a impedire ciò il professor Schwung ed io siamo come ben si intende entrambi fermamente decisi tengo conto del fatto che tu non hai studiato le leggi ma non ignorerai che il punto d'attacco preferito di questa incertezza giuridica falsamente ammantata di umanità è il tentativo di estendere il concetto di irresponsabilità descrivendo il castigo con la formula poco chiara di diminuita capacità di intendere e di volere a quei numerosi individui che non sono né infermi di mente né intellettualmente normali e costituiscono l'esercito di minorati di esseri moralmente inferiori che purtroppo infestano sempre più la nostra civiltà tu dirai che questo concetto della diminuita capacità di intendere e di volere se è lecito chiamarlo un concetto cosa di cui dubito deve essere strettamente connesso con l'interpretazione che noi diamo all'idea della piena responsabilità o irresponsabilità e con questo vengo all'oggetto vero e proprio della mia comunicazione e cioè richiamandomi alla legislazione già esistente e in considerazione delle circostanze soprelencate io ho proposto alla commissione consultiva sunnominata di dare al relativo paragrafo 318 del futuro codice penale la formulazione seguente un'azione punibile non è più tale se l'autore nel momento in cui commette l'azione si trova in stato di incoscienza o di perturbazione patologica della sua attività mentale per cui il professor sfung ha presentato una proposta che incominciava con le stesse precise parole la sua però così proseguiva per cui resta esclusa la sua libera volizione mentre la mia suonava per cui egli non possiede la capacità di riconoscere l'illegalità della propria azione devo confessare che sulle prime non notai affatto la perfida intenzione di quella differenza personalmente ho sempre sostenuto il concetto che la volontà col progressivo sviluppo dell'intelligenza e della ragione giunga a soggiogare il desiderio ossia l'istinto mediante la riflessione e la conseguente risoluzione per conseguenza un'azione voluta è sempre un'azione commessa con il pensiero e mai un'azione istintiva l'uomo è libero in quanto sceglie la propria volontà se ha desideri umani cioè desideri corrispondenti al suo organismo sensuale dunque la sua mente è perturbata allora egli non è libero la volontà non è casuale è determinazione spontanea necessariamente derivante dall'io e dunque la volontà è determinata nell'intelletto e se l'intelletto è turbato e la volontà non è più volontà l'uomo agisce allora secondo la natura del suo istinto so perfettamente che ve una letteratura che sostiene la tesi opposta secondo la quale il pensiero si determina nella volontà e questa è una concezione che ha trovato seguaci fra i giuristi moderni solo dal 1797 mentre quella da me adottata resiste a tutti gli attacchi fin dal IV secolo avanti Cristo ma io volevo mostrarmi conciliante e perciò propose una formulazione che riunisse le due proposte e quindi suonasse così un'azione punibile non è più tale se l'autore nel momento in cui la compie si trova in stato di incoscienza o di perturbazione patologica della sua attività mentale per cui non possiede la capacità di riconoscere l'illegalità della sua azione e resta esclusa la sua libera volizione fu allora che il professor Schwung rivelò la sua vera natura e gli disdagnò la mia cortesia e affermò boriosamente che la congiunzione e doveva essere sostituita con oppure tu capisci l'intenzione è proprio la superiorità del pensatore sul dilettante che egli sappia distinguere un oppure dove l'altro mette semplicemente un e e Schwung tentava di farmi passare per un pensatore superficiale gettando sullo spirito conciliativo da me dimostrato con quell'e l'ombra del sospetto che io non sapessi afferrare in tutta la sua portata l'estensione del contrasto da appianare si intende che a partire da quel momento mi sono opposto con tutte le mie forze ho ritirato il mio tentativo di conciliazione e mi son sentito costretto a insistere per l'adozione del mio testo primitivo senza varianti ma da allora Schwung con perfidia raffinata si sforza di procurarmi difficoltà così oppugna che secondo la mia protesta avente per base la capacità di riconoscere l'illegalità dell'azione una persona la quale come talvolta accade soffre di una particolare monomania ma per il resto sia sana potrebbe essere assolta per infermità mentale solo se si riesce a dimostrare che in seguito alle sue particolari fissazioni essa crede all'esistenza di circostanze che giustificano la sua azione o che ne aboliscono la punibilità così che essa si sarebbe comportata correttamente seppure in un modo falso e immaginario questa però è un'obiezione non valida perché anche se la logica empirica riconosce persone che sono in parte ammalate e in parte sane la logica del diritto non potrà mai ammettere una mescolanza di due stati giuridici per essa le persone sono responsabili o non lo sono ed è lecito supporre che anche in individui sofferenti di particolari fissazioni sussista la facoltà di distinguere il bene dal male se in un caso speciale essa viene offuscata basta uno sforzo maggiore della loro intelligenza per ristabilire l'equilibrio con il resto dell'io e non v'è nessun motivo di vedere in questo una particolare difficoltà ho dunque immediatamente ribattuto al professor Schwung che se gli stati di responsabilità e di irresponsabilità non possono logicamente coesistere bisogna ammettere che in tali individui essi si alternino in rapido avvicendamento e ne consegue la difficoltà appunto per la sua teoria di rispondere al quesito in quale dei due stati si sia prodotta l'azione perché a tal uopo occorrerebbe addurre tutte le cause che hanno influito sull'accusato dalla nascita in poi e tutte quelle che hanno influito sui suoi antenati dai quali ha avuto in retaggio qualità buone e cattive tu non lo crederai ma Schwung ha avuto veramente la spudoratezza di rispondermi che era proprio così perché la logica del diritto non può ammettere a proposito della stessa azione una mescolanza di due stati giuridici e perciò bisogna stabilire anche a proposito di ogni singola volontà se l'imputato dato il suo sviluppo psichico sia stato in grado di dominare il proprio volere oppure no noi sappiamo secondo lui con molta maggiore evidenza essere libera la nostra volontà che esistere è una causa di tutto ciò che avviene e poiché siamo fondamentalmente liberi lo siamo anche secondo i vari motivi cosicché bisogna dedurne che in un simile caso basta uno sforzo particolare della forza di volontà per resistere all'impulso delittuoso determinato da cause a questo punto Ulrich interruppe la lettura dei progetti paterni e soppesò pensieroso i molti annessi citati in margine ed è ancora un'occhiata all'ultimo foglietto della lettera ed apprese che il padre attendeva da lui che esercitasse un influsso obiettivo sui conti Leinsdorf e Stalburg e gli dava l'espresso consiglio di mettere in guardia per tempo i comitati competenti dell'azione parallela contro i pericoli che potevano derivare dallo spirito dell'integrità dello Stato se nell'anno del Giubileo un problema così importante fosse stato impostato e risolto erroneamente Il generale Stum Il generale Stum von Botwer considera le visite a Diotima una piacevole distrazione dalle sue mansioni ufficiali Il piccolo generale Panciuto era venuto un'altra volta a riberire Diotima Sebbene al guerriero in sala di consiglio si è assegnato un compito modesto e gli aveva incominciato oso tuttavia far presente che lo Stato è il potere di affermarsi nella lotta dei popoli e che la forza militare che si spiega in tempo di pace tiene lontana la guerra Ma Diotima gli aveva subito tolto la parola Generale disse il vibrante di collera tutta la vita riposa sulle forze di pace persino l'attività commerciale a saperla ben considerare è poesia Il piccolo generale la guardò per un attimo costernato poi si rimise subito in sella Eccellenza si affrettò a dichiarare e per capire questo titolo bisogna ricordare che lo sposo di Diotima era capo di visione e che in Cacania un capo di visione ha lo stesso grado di un comandante di divisione che in realtà solo i comandanti di divisione hanno diritto al titolo di eccellenza e unicamente in servizio ma poiché la professione militare è una professione cavalleresca era inconcepibile non chiamarli eccellenza anche fuori di servizio e sempre in questo spirito cavalleresco si dava dell'eccellenza anche alle loro consorti senza star lì a chiedersi quando mai queste si trovassero in servizio questi complicati ragionamenti il piccolo generale li passò in rivista di volo per assicurare subito Diotima della sua incondizionata approvazione e devozione sicché disse eccellenza lei mi toglie la parola di bocca naturalmente il ministero della guerra non può essere rappresentato nel comitato per evidenti ragioni politiche ma abbiamo sentito dire che la grande azione si prefigge uno scopo pacifico un movimento internazionale per la pace si sussurra o l'offerta di affreschi austriaci per il palazzo dell'aia e posso garantire l'eccellenza che la cosa c'è estremamente simpatica di solito si ha dei militari un'idea sbagliata certo certo non voglio asserire che un giovane tenente non sogni la guerra ma tutte le autorità responsabili sono profondamente convinte che la sfera della forza da noi purtroppo rappresentata deve sempre essere benedetta dai doni dello spirito così come ha detto ora la vostra eccellenza estrasse una spazzolina dalla tasca dei pantaloni e se la passò due o tre volte sui baffetti era una cattiva abitudine conservata da quando era cadetto e i baffi rappresentavano la grande speranza impazientemente accarezzata ma egli non lo sapeva coi suoi grandi occhi bruni fissava in faccia di Otima e cercava di leggere l'effetto delle sue proprie parole di Otima si mostrò raddolcita sebbene non lo fosse mai del tutto in presenza del generale e si degnò di dargli ragguagli su quanto era avvenuto dopo la grande seduta inaugurale il generale si mostrò entusiasta soprattutto del ricevimento alle celebrità espresse la sua ammirazione per Arnheim e si disse convinto che quella grande adunanza avrebbe dato frutti eccezionali e benefici molta gente non sa che c'è troppo poco ordine nel campo intellettuale e gli dichiarò se permette eccellenza dirò anzi che quasi tutti credono di vedere un progresso quotidiano dell'ordine pubblico sembra che l'ordine regni dappertutto nelle fabbriche negli uffici nei dipartimenti ferroviari e nelle scuole e ci ha permesso citare con orgoglio anche le nostre caserme che nonostante i mezzi modesti ricordano la disciplina di un buon complesso orchestrale e dovunque ci guardi si vede un ordine ordine di marcia ordine di precedenza ordine d'anzianità ordine degli affari ordine ecclesiastico ordine morale alle ordine del giorno eccetera eccetera dunque io sono persuaso che oggi quasi tutti ritengono il nostro secolo il più ordinato che ci sia mai stato anche lei eccellenza non ha in fondo questa impressione io sì e dunque io stesso se non sto bene attento ho la sensazione che lo spirito nuovo stia appunto in questo maggior ordine e che i regni di Ninive e di Roma siano andati a catafascio per qualche sciatteria credo che la maggioranza degli uomini pensi così e supponga tacitamente che il passato è passato per castigo per qualcosa che non era in ordine naturalmente si tratta di un'idea erronea a cui la gente colta non deve abbandonarsi e di qui appunto sorge la necessità della forza della professione militare il generale era molto soddisfatto di chiacchierare così con quella giovane donna tanto intelligente era una piacevole diversione in mezzo alle sue incombenze d'ufficio ma Diotima non sapeva cosa rispondergli perché a casaccio noi speriamo davvero di raccogliere intorno a noi gli uomini più rappresentativi ma l'opera resta pur sempre ardua lei non immagina come sono svariate le proposte che riceviamo e si vorrebbe pur scegliere il meglio ma lei ha parlato d'ordine generale ma di mai si arriverà alla meta con l'ordine con la fredda ponderazione con i confronti e le indagini la soluzione deve essere un baleno improvviso un lampo un fuoco un'intuizione una sintesi la storia dell'umanità se si considera non è uno sviluppo logico con le sue improvvise ispirazioni di cui solo più tardi si svela il senso fa pensare piuttosto a un poema mi perdoni eccellenza riprecò il generale un soldato si intende poco di poesia ma se qualcuno può donare fuoco e lampi a un movimento questa è lei mia signora lo lasci dire a un vecchio generale 76 il conte Leinsdorf si mostra riservato fin qui il grasso generale era assai cortese sebbene facesse le sue visite senza essere stato invitato e Diotima gli aveva confidato assai più di quanto avrebbe voluto ciò che tuttavia lo ricingeva di timore per cui ella ebbe più tardi a rimpiangere la propria gentilezza non proveniva in fondo da lui stesso ma piuttosto come se lo spiegò Diotima dal conte Leinsdorf sua signoria era geloso e in caso affermativo di chi Leinsdorf non si era mostrato così favorevole al concilio come Diotima aveva sperato pur facendovi ogni volta brevi apparizioni sua signoria aveva una spiccata avversione per quella che chiamava letteratura e nient'altro era un'idea che per lui si associava con ebrai giornali librai abiti di reclam e spirito borghese liberale che produce per denaro e che chiacchiera a vuoto e la frase letteratura e nient'altro era diventata una sua espressione abituale ogni volta che Ulrich si preparava a leggergli le lettere recate dalla posta che suggerivano di muovere il mondo avanti oppure indietro egli si rifiutava con le parole di cui ognuno si serve quando oltre alle proprie opinioni deve apprendere le opinioni degli altri diceva no no oggi ho molte cose importanti e quella è soltanto letteratura allora pensava alle distese coltivate ai contadini alle piccole chiese di campagna e all'ordine divino legato stretto come i covoni su un campo commietuto che è così bello sano e redditizio quando permette magari l'installazione di qualche distilleria di acquavite per fare anche al progresso la parte sua ed ecco che in quella serena ampia veduta società di tiro a segno e consorzi di lattai per quanto disseminati appaiono come un complesso d'ordine stabilito e collegato e se fossero indotti a presentare richieste sulla base di un principio essi avrebbero se così si può dire la precedenza che una proprietà spirituale debitamente registrata ha di fronte all'esigenza di un privato così avveniva che il conte Langsdorf quando Diotima voleva parlargli seriamente di quanto aveva appreso dagli spiriti magni aveva di solito in tasca o sotto mano la proposta di un'associazione di sei o sette imbecilli e affermava che nel mondo delle preoccupazioni reali quella carta pesava assai più che le trovate dei geni era uno spirito come quello che il capodivisione Tuzzi elogiava negli archivi del suo ministero dove ci si rifiutava di conoscere ufficialmente il concilio ma si prendeva spaventosamente sul serio ogni puntura di pulce del più piccolo gazzettino di provincia e Diotima in tali affanni non aveva nessuno a cui confidarsi tranne Arnheim ma proprio Arnheim prese le difese di sua signoria fu lui a magnificarle la serena vastità di vedute di quel gran signor quando ella si legnò della preferenza manifestata del conte L'Einstorf per le società bocciofile e i consorsi agricoli sua signoria ha fede nella forza educatrice della terra e dei tempi gli spiegò gravemente mi creda questo è un effetto della proprietà terriera la terra semplifica come l'acqua pulifica io stesso l'ho sperimentato in ogni mio soggiorno nel mio modestissimo podere la vera vita ci rende semplici e dopo qualche citazione soggiunse nella sua semplice e grandiosa visione della vita sua signoria è anche di una tolleranza estrema per non dire temeraria poiché questo lato del suo illustre protettore le riusciva nuovo Diotima spalancò gli occhi non saprei affermare con sicurezza continuò Arnheim con enfasi imprecisa se il conte Leinstorf si avveda quanto Ulrich come il suo segretario abusi della sua fiducia se intende e mi affetto ad aggiungere solo per differenza di mentalità con il suo scetticismo di fronte ai grandi progetti e con il suo ironico sabotaggio se non fosse che quell'autentico pari è così solidamente ancorato ai grandi sentimenti e concetti tradizionali su cui posa la vera vita sicché probabilmente tale fiducia non gli reca danno io temerei l'influsso di suo cugino sul conte Leinstorf era un giudizio forte e ben meritato su Ulrich ma Diotima non vi badò molto perché era impressionata dall'altra affermazione di Arnheim quel considerare i suoi beni non come una proprietà fondiaria ma come un messaggio spirituale lo trovava meraviglioso e fantastico di vivere come moglie in un podere così ho spesso ammirato disse la sua indulgenza nel giudicare sua signoria in fin dei conti è un periodo storico che tramonta no? sì certo rispose Arnheim ma le semplici virtù coraggio cavalleria e autodisciplina e quella casta esemplarmente coltivato conserveranno sempre il loro pregio il signore in una parola anche nella vita degli affari ho imparato ad attribuire un valore sempre più grande all'elemento signore allora il signore sarebbe in ultima analisi un equivalente della poesia chiese di ottima sopra pensiero lei ha detto una cosa meravigliosa esclamò il suo amico è il segreto della vita gagliarda con la sola intelligenza non si può essere morali né fare della politica l'intelligenza non basta i fatti decisivi si svolgono al di sopra di essa gli uomini che hanno fatto grandi cose hanno tutti amato la musica la poesia la forma la disciplina la religione e la cavalleria sarai quasi per dire che solo chi ama tutto ciò può aver fortuna perché sono i cosiddetti imponderabili quelli che fanno il signore l'uomo e anche nell'ammirazione del popolo per l'attore se ne scopre ancora un oscuro vestigio ma per tornare al suo cugino le cose non stanno semplicemente così e si incomincia senz'altro a diventare un conservatore quando si è diventati troppo comodi per la vita sregolata anche se fossimo nati tutti rivoluzionari un giorno ci accorgeremmo che un uomo semplicemente buono qualunque sia la sua intelligenza un uomo sereno valoroso leale insomma non è soltanto una grandissima gioia per chi lo incontra ma è il vero humus in cui è riposta la vita questa è la saggezza dei nostri vecchi e significa la decisiva trasformazione del gusto che in gioventù è naturalmente rivolto all'esotico nel gusto maturo virile io ammiro suo cugino per molti lati o se questa è un'affermazione arrischiata poiché non si può sempre dar credito alle sue parole dirò piuttosto che gli voglio bene perché c'è in lui una straordinaria libertà e indipendenza accanto a molte rigidezze e stranezze forse il suo fascino sta proprio in quella mescolanza di libertà e di rigore ma è un uomo pericoloso col suo infame esotismo morale e col suo ingegno raffinato che cerca sempre un'avventura senza saper bene che cosa ve lo spinga 77 Arnheim amico dei giornalisti Giotim ebbe ripetute occasioni di osservare gli imponderabili che agivano su Arnheim così ad esempio egli suggerì di invitare alle sedute del concilio che era il nome un po' ironico che il capodivisione Tuzzi aveva dato al comitato per la stesura di una risoluzione relativa al settantesimo anniversario dell'ascesa al trono di sua maestà anche i rappresentanti della grande stampa sebbene lui fosse presente solo come invitato senza cariche ufficiali godeva di una considerazione da parte dei giornalisti che faceva impallidire tutte le altre celebrità per qualche motivo imponderabile infatti i giornali non sono istituti di ricerche e laboratori dello spirito come potrebbero essere con vantaggio generale ma soltanto magazzini e borse Platone prendiamo lui per esempio perché lo si cita accanto a una dozzina di altri come massimo pensatore andrebbe certo invisibilio davanti a un'organizzazione giornalistica dove ogni giorno si può creare trasformare raffinare una nuova idea dove le notizie affluiscono da tutti gli estremi confini del mondo con una velocità mai vista e uno stato maggiore di demiurghi è pronto ad analizzare immediatamente il contenuto spirituale e reale egli riconoscerebbe in una relazione di giornale quel topos uranios la patria celeste delle idee da lui tanto efficacemente descritta che ancora oggi tutte le persone per bene quando parlano con i loro figli o subordinati sono idealisti e certo se si presentasse improvvisamente alla sede di un giornale e dimostrasse di essere per davvero quel grande scrittore morto più di duemila anni fa desterebbe un clamore enorme e gli sarebbero fatte tutte le offerte più vantaggiose se poi riuscisse a scrivere in tre settimane un epistolario filosofico e turistico e a far filmare qualche migliaio delle sue famose favolette brevi e magari l'una e l'altra delle sue opere più antiche per un certo tempo se la passerebbe proprio bene ma appena esaurita l'attualità del suo ritorno se il signor Platone volesse tradurre in atto una delle sue ben note idee che mai hanno potuto veramente trionfare il redattore capo lo inviterebbe tutt'al più a scrivere sull'argomento qualche bell'articolo per la pagina letteraria della Domenica ma una cosetta agile svelta niente pesantezza di stile bisogna andare incontro ai gusti dei lettori e il redattore letterario aggiungerebbe che quella collaborazione dovrebbe limitarsi purtroppo a un articolo ogni mese perché vi sono altri scrittori di ingegno da accontentare e i due redattori preverebbero la soddisfazione di aver fatto molto in favore di un uomo che è sì il nestore dei pubblicisti europei ma un po' superato e per valore d'attualità non si può certo paragonare a un uomo com'è Paul Arnheim in quanto ad Arnheim egli non si sarebbe mai prestato a questo perché la sua riverenza per tutto ciò che è grande ne sarebbe rimasta urtata ma sotto certi aspetti lo avrebbe trovato molto comprensibile oggi che si fanno ogni sorta di discorsi confusi che profeti e imbroglioni usano le stesse parole tranne piccole differenze di cui nessun uomo occupato ha tempo di andare in trazza anche le redazioni dei giornali sono perpetuamente assediate dai sedicenti geni è molto difficile stimare al giusto valore un uomo o un'idea non ci si può affidare che al proprio udito per stabilire quando è che il brusio il mormorio il sussurro davanti alla porta della redazione è diventato tanto forte da ottenere l'accesso come voce del pubblico da quel momento però il genio cambia stato non è più un'oziosa questione di critica teatrale o letteraria alle cui contraddizioni il lettore ideale di giornali non dà peso quasi chiacchiere di bambino ma ottiene la dignità di un fatto con tutte le conseguenze annesse certi stolti zelanti non avvertono il disperato bisogno di idealismo che sta in fondo a tutto questo il mondo dello scrivere e del dover scrivere è pieno di grosse parole e concetti che hanno perduto i loro oggetti gli attributi dei grandi uomini e dei grandi entusiasmi vivono più a lungo delle loro cause e perciò v'è una quantità d'attributi in sopravanso sono stati coniati chissà da quando da un uomo importante per un altro uomo importante ma entrambi sono morsi da un pezzo i concetti sopravvissuti devono essere adoperati perciò per l'attributo si cerca sempre l'uomo la grandiosa potenza di Shakespeare l'universalità di Goethe la profondità psicologica di Dostoevsky e tutte le altre immagini che una lunga evoluzione letteraria si è lasciata dietro ingombrano a centinaia i cervelli di quelli che scrivono e per via di questo ingorgo costoro proclamano oggi la profondità di una strategia del tennis e la sublimità di un poeta alla moda si capisce che sono contenti quando possono appiccicare a qualcuno senza rimettersi le parole di cui hanno pieno il magazzino ma deve essere un qualcuno la cui importanza è già un fatto stabilito sicché risulti chiaro che le parole ben gli si appongono anche se non importa dove e Arnheim era un uomo di questi perché Arnheim era Arnheim ed Arnheim succedeva in Arnheim come erede di suo padre egli era un avvenimento fin dalla nascita e non si poteva dubitare dell'attualità di tutto quel che diceva bastava si sottoponesse al piccolo sforzo di dire qualcosa che con un po' di buona volontà si potesse trovare importante e Arnheim stesso riassumeva il fenomeno in una massima giusta una gran parte della vera importanza di un uomo sta nella capacità di farsi capire dai contemporanei e gli soleva dire anche questa volta dunque se la sbrigò benissimo coi giornalisti che si erano impadroniti di lui sorrise appena di certi finanzieri o politici ambiziosi che vorrebbero comprare intere montagne di giornali un simile tentativo di influire sull'opinione pubblica gli sembrava pusillanime e goffo come un uomo che offra a una donna denario in cambio d'amore mentre può avere tutto quanto a buon mercato semplicemente eccitando la sua fantasia ai giornalisti che gli chiedevano la sua opinione sul concilio aveva risposto che il fatto stesso della riunione ne dimostrava la profonda necessità perché nella storia del mondo non accade mai nulla di irragionevole e con ciò aveva così bene imbroccato il loro umore professionale che quella sentenza fu riprodotta da molti giornali a ben considerarla era infatti una sentenza azzeccata perché coloro che pigliano sul serio tutto quel che succede dovrebbero sentirsi male se non avessero la convinzione che non succede nulla di irragionevole ma d'altra parte come si sa preferirebbero mordersi la lingua che prendere qualcosa troppo sul serio anche se fosse l'importante per l'antonomasia la presina di pessimismo che Arnheim aveva messo nella sua frase contribuì molto a dare una reale dignità all'iniziativa e anche il fatto che gli fosse un forestiero poteva ormai essere interpretato come un segno di interesse di tutto il mondo estero per gli appassionati avvenimenti spirituali che si svolgono in Austria le altre celebrità partecipanti al concilio non avevano il medesimo talento innato di piacere alla stampa ma s'avvidero dell'effetto e già che le celebrità in generale sanno poco l'una dell'altra e nel treno dell'eternità su cui viaggiano tutte insieme si incontrano per lo più solo al vagone ristorante gli onori speciali pubblicamente tributati al nababbo influirono anche su di lui e quantunque gli seguitasse a tenersi lontano da tutti i comitati costituiti divenne automaticamente il centro del concilio quanto più la riunione progrediva tanto più si faceva evidente che la vera attrazione era lui quantunque in fondo non fecesse nulla per questo tranne forse manifestare anche nei colloqui con gli illustri convitati un pregiudizio interpretabile come dichiarato pessimismo cioè che dal concilio non c'era da aspettarsi gran cosa ma d'altra parte una meta così alta esigeva di per sé stessa tutta la confidente abnegazione che le si poteva dedicare un pessimismo così gentile dà sta fiducia anche fra gli spiriti eletti per un ignoto motivo infatti l'idea che oggi lo spirito non consegue mai il vero successo riesce più simpatica che quella che uno dei colleghi debba conseguire questo successo e il giudizio riservato ad Arnang sul concilio potrebbe essere inteso come un adattamento a tale possibilità 78 la metamorfosi di Diotima i sentimenti di Diotima non si sviluppavano secondo una linea così costantemente ascendente come i trionfali successi di Arnheim avveniva che nel bel mezzo di un gruppo al centro della sua casa sgomberata e trasformata e la credesse di svegliarsi in un paese di sogni rimaneva lì circondata da gente e da spazio la luce del lampadario le bagnava i capelli e scendeva giù per le spalle e per i fianchi così che le pareva di sentirne il luminoso fluire ed era come una statua avrebbe potuto essere la figura di una fontana nel centro di un centro del mondo inondata di altissima grazia spirituale ne sembrava un'occasione unica e fuggitiva in cui si avverasse tutto quello che si è creduto essenziale ed eccelso nel corso della vita ne le importava molto di non sapersi figurare nulla di preciso tutta la casa la presenza di tanta gente la serata la racchiudeva come un vestito con l'interno di seta gialla se lo sentiva sulla pelle ma non lo vedeva di tanto in tanto volgeva lo sguardo ad Arnheim che era in qualche gruppo di uomini e discorreva ma poi si accorgeva di averlo sempre guardato ed era solo il suo risveglio che si rivolgeva nella stessa direzione anche senza che ella lo guardasse le punte estreme dell'ali della sua anima posavano sul viso di lui e la avvisavano di quanto vi accadeva per restare nelle penne bisognerebbe aggiungere che anche nell'aspetto di Arnheim c'era qualcosa di un sogno come un mendicante con ali dorate d'angelo che fosse disceso in mezzo alla riunione lo sferragliare di treni espressi e di lusso il rombare di automobili il silenzio di casini da caccia lo schioccare di vele di panfili era in quelle ali invisibili ripiegate lievemente fruscianti a qualche gesto esplicativo del braccio di cui lo dotava il sentimento di Diotima come al solito Arnheim era sovente lontano in viaggio e perciò la sua presenza aveva sempre qualcosa che andava al di là del momento e degli avvenimenti locali che pure per Diotima importavano tanto e la sapeva che c'era un segreto andirivieni di dispacci visitatori invitati della sua azienda mentre egli era a Vienna a poco a poco ella si formò un concetto e forse era esagerato dell'importanza di una casa mondiale e delle sue concatenazioni con gli eventi della sua gran vita Arnheim talvolta faceva racconti che toglievano il fiato sulle relazioni del gran capitale sugli affari con l'oltremare e sulle colleganze politiche orizzonti nuovi anzi semplicemente orizzonti si aprivano per la prima volta davanti a Diotima bastava averlo sentito parlare una sola volta dei contrasti franco-tedeschi di cui Diotima sapeva poco tutt'al più che le persone del suo ambiente avevano una leggera simpatia per la Germania unita a un fastidioso senso di doverosa solidarietà ma nell'esposizione di lui diventava un problema gallo celtico alpino tiroidologico legato alle miniere di carbone della Lorena e più indirettamente al petrolio messicano e alle divergenze fra l'America del Nord e l'America Latina di tali correlazioni il signor Tuzzi non aveva la più lontana idea o almeno non pareva che l'avesse si accontentava di ammonire di quando in quando Diotima che secondo lui la presenza e l'assiduità di Arnheim in casa loro non si potevano spiegare senza supporre scopi segreti ma sull'eventuale natura di questi non si pronunciava e forse non ne sapeva nulla neanche lui così sua moglie sentiva con evidenza la superiorità degli uomini nuovi sui metodi di una diplomazia ormai invecchiata non aveva dimenticato il momento in cui aveva preso la risoluzione di porre Arnheim a capo del movimento era stata la prima grande idea della sua vita ed ella si era trovata allora in una condizione bizzarra era caduta in uno stato di fusione e di sogno l'idea aveva spaziato in meravigliose lontananze e tutto ciò che fino allora aveva costituito il mondo di Diotima si era liquefatto davanti a quell'idea ben poco di questa sensazione si poteva tradurre in parole era un luccichio un barbaglio una strana vacuità e fuga di pensieri e si poteva persino ammettere tranquillamente pensava Diotima che il nocciolo essenziale quello cioè di mettere Arnheim alla testa dell'azione patriottica fosse interamente assurdo Arnheim era straniero senza dubbio così immediato dunque come ella l'aveva prospettato al conte Leinsdorf e al marito il compimento di quell'idea non poteva essere non di meno tutto era avvenuto secondo l'ispirazione di quel suo stato infatti tutti gli altri sforzi per dare all'azione un contenuto veramente elevato erano finora rimasti vani la grande seduta d'apertura i lavori delle commissioni persino quel concilio privato al quale d'altronde Arnheim obbedendo a una strana ironia del destino era poco propenso non avevano prodotto altro che Arnheim che raccoglieva tutto intorno a sé che doveva parlare ininterrottamente e che accentrava in sé tutte le speranze era l'uomo nuovo chiamato a sostituire le vecchie potenze al timone della storia Giotima poteva lusingarsi di essere stata colei che lo aveva subito scoperto che aveva parlato con lui dell'ingresso dell'uomo nuovo nelle sfere del potere e l'aveva aiutato a compiere il suo cammino contro l'opposizione degli altri se Arnheim aveva davvero un secondo fine come sospettava il capo di visione Tuzzi Giotima sarebbe stata ad ogni modo pronta fin dal principio ad appoggiarlo in tutti i modi perché un grande momento non tollera una ponderazione meschina ed ella sentiva di essere all'acme della propria vita tranne i perseguitati dalla scalogna e i nati con la camicia tutta l'umanità vive ugualmente male ma abita a piani diversi questa coscienza del proprio piano è per l'uomo di oggi che in generale ha una prospettiva ristretta sul senso della propria vita un apprezzabilissimo sul rogato in casi speciali si può arrivare a un'ebbrezza di autorità e di potere così come ci sono individui che agli ultimi piani sono colti da vertigine anche se sono coscienti di stare in mezzo alla camera con le finestre serrate quando Diotima pensava che uno degli uomini più influenti d'Europa collaborava con lei a introdurre lo spirito nelle sfere del potere e come il destino li aveva condotti a incontrarsi e quello che stava loro accadendo anche se al piano assai elevato di un'azione umanitaria per l'universalità dell'Austria quel giorno non stesse accadendo proprio nulla di speciale quando pensava tutto questo il filo delle sue idee era una serie di nodi che si sono allentati in cappi la rapidità del pensiero aumentava il corso ne era più facile una strana sensazione di felicità e di fortuna accompagnava le sue trovate e uno stato di ricettività le portava a intuizioni di cui si stupiva ella stessa la sua sicurezza di sé ne era cresciuta lusinghieri successi che prima non avrebbe osato sperare erano lì a portata di mano ella era più serena che non fosse mai stata le venivano in mente persino certi scherzi arrischiati e qualcosa di mai provato prima in peti d'allegria anzi di gioia sfrenata la pervadevano le pareva di essere nella stanza di una torre con molte finestre c'era anche qualcosa di leggermente inquietante angustiava un senso di ineffabile vago indefinito benessere che la spingeva a fare qualcosa a compiere azioni universali di cui non aveva la minima idea si potrebbe dire quasi che percepiva improvvisamente il volger del globo sotto i suoi piedi e ne era presa oppure che quei violenti fenomeni senza contenuto palpabile la impacciavano come un cane che ti balza fra i piedi e che nessuno ha visto venire perciò di ottima aveva paura della metamorfosi che senza suo espresso consenso era avvenuta in lei e tutto sommato la sua condizione somigliava piuttosto a quel chiaro grigio nervoso che è il colore delicato del cielo libero da ogni peso nell'ora disanimata del più intenso calore l'aspirazione di di ottima all'ideale subiva intanto un cambiamento importante quella aspirazione non si era mai potuta distinguere chiaramente da una corretta ammirazione per le grandi cose era un idealismo signorile un'animazione dignitosa e poiché nei tempi attuali più robusti non si sa più che cosa sia sarà meglio farne qualche breve cenno quell'idealismo non era oggettivo perché l'oggetto appartiene al mestiere al lavoro manuale e il lavoro manuale è sempre poco pulito piuttosto era come la pittura floreale delle arciduchesse per le quali altri modelli che i fiori non sarebbero convenevoli e la caratteristica di quell'idealismo era l'idea di cultura esso si riteneva ultra coltivato ma lo si sarebbe anche potuto chiamare armonico perché abborriva da ogni scompenso e considerava missione della cultura mettere in armonia gli stridenti contrasti che purtroppo vi sono nel mondo in una parola forse non era poi tanto diverso da quello che ancora oggi ma naturalmente è solo là dove rimane salda la grande tradizione borghese si intende per sano e schietto idealismo il quale fa molta differenza fra oggetti che sono degni di lui e gli altri che non lo sono e per motivi di più alta umanità non partecipa affatto alla credenza dei santi dei medici e degli ingegneri che anche nelle scorie morali vi sia un celeste potere calorifico non utilizzato se qualcuno avesse destato prima di ottima dal sonno e le avesse chiesto che cosa voleva e l'avrebbe risposto senza bisogno di riflettere che la forza dell'amore di un'anima vivente ha bisogno di comunicarsi a tutto il mondo ma passato un po' di tempo dal risveglio avrebbe posto limiti alla sua risposta con l'osservazione che nel mondo attuale soffocato dal troppo ricoglio dell'intelligenza e della civiltà si può tutt'al più parlare cautamente anche per le nature più sublimi di un'aspirazione analoga alla forza dell'amore e sarebbe stata davvero la sua persuasione vi sono ancora oggi migliaia di persone così che si potrebbero chiamare i polverizzatori della forza d'amore quando Diotima intraprendeva la lettura ad uno dei suoi libri si tirava indietro i bei capelli dalla fronte il che le dava un'aria logica e leggeva con un senso di responsabilità e studiandosi di trarre da ciò che la chiamava cultura un aiuto prezioso per la posizione sociale in cui si trovava e viveva nello stesso modo distribuendosi in piccole stille d'amore sopraffino a tutte le cose che lo meritavano lo errorava come una rugiada e per lei stessa non rimaneva che la vuota ampulla del corpo facente parte dell'inventario di casa del capodivisione Tuzzi prima della comparsa di Arnheim mentre era ancora sola fra suo marito e la grande illuminazione della sua vita l'azione parallela ciò le aveva cagionato accessi di grave malinconia ma da allora in poi il suo stato si era modificato in un ordine nuovo assai naturale la forza d'amore si era vigorosamente rattratta ed era per così dire rientrata nel corpo e l'aspirazione analoga era diventata molto egoistica e univoca quell'idea suggerita dapprima dal suo cugino di trovarsi nello stadio preliminare di un'azione in attesa che qualcosa che non sapeva ancora immaginare stesse per accadere fra lei e Arnheim aveva un grado di concentrazione talmente più alta di tutte le idee da cui finora era stata dominata che l'ormai era persuasa di essere passata dal sonno alla veglia anche il senso di vuoto che è particolare ai primi istanti di un tale trapasso non le faceva difetto ed ella ricordava da certe descrizioni che è questo un segno di passione incipiente credeva di poter interpretare in tal senso molte cose dette da Arnheim negli ultimi tempi i suoi discorsi sulla propria posizione sui doveri e virtù che gli erano necessari erano preparazioni a qualcosa di ineluttabile ed Ottima considerando tutto ciò che era stato finora il suo ideale sentiva il pessimismo spirituale dell'azione come una persona con i bauri pronti che getta un ultimo sguardo alle stanze già quasi senza anima dove è vissuta per anni la conseguenza inattesa fu che l'anima di Diotima rimasta improvvisamente senza la custodia delle forze superiori si mise a comportarsi come uno scolaretto scappato da scuola che fa baldoria finché lo coglie la tristezza della sua assurda libertà e per questa strana circostanza subentrò per breve tempo nei rapporti col marito nonostante l'allontanamento crescente qualcosa che se non una tarda primavera d'amore somigliava stranamente a un miscuglio di tutte le stagioni amorose il piccolo capodivisione piacevolmente odorante di pelle bruna e asciutta non capiva quel che accadeva aveva notato più di una volta che sua moglie in presenza di ospiti appariva stranamente trassognata assorta lontana e nervosissima davvero ipersensibile e tutta assente al tempo stesso ma quando erano soli e lui un po' intimidito e sospettoso le andava vicino per interrogarla ella gli buttava le braccia al collo con immotivata gaiezza e gli premeva sulla fronte due labbra straordinariamente ardenti che gli ricordavano il ferro del parrucchiere quando arricciando la barba si avvicinava troppo alla pelle era sgradevole quella tenerezza imprevista ed egli si soffregava la fronte di nascosto mentre Diotima non vedeva se poi egli faceva per prenderla fra le braccia o dopo che l'aveva già presa il che era ancora più irritante allora ella lo accusava fremente di non averla mai amata e di non saper far altro che aggredirla come una belva ora sarà una certa misura di sensitività e di capriccio nel quadro che egli si faceva in gioventù di una donna desiderabile complemento dell'uomo e la grazia spiritualizzata con cui Diotima offriva una tazza di tè prendeva in mano un libro nuovo o giudicava di una questione che secondo suo marito non poteva assolutamente intendere lo aveva sempre rapito per la sua forma perfetta era per lui come una discreta musica conviviale una cosa che gli piaceva straordinariamente Tuzzi però pensava anche che svincolare la musica dal mangiare o dall'andare in chiesa e la tendenza a farne fine a se stessa fosse già una vanità borghese benché sapesse che non lo si poteva dire ad alta voce ed altronde si soffermava ben poco su tali pensieri che fare dunque quando Diotima ora lo abbrazzava ora assereva offesa che vicino a lui una creatura tutt'anima non trovava la libertà di levarsi alla propria vera natura che cosa rispondere a inviti come quello di pensare alle profondità dell'intimo mare di bellezza se non occuparsi subito del corpo di lei tutto intratto gli era imposto di intendere la differenza fra un erotico in cui lo spirito dell'amore realizza libero da concupiscenze e un sensuale certo erano sottigliezze letterarie di cui si poteva ridere ma quando vengono enunciate pensava Tuzzi da una donna che si sta spogliando con simili ammonimenti sulle labbra allora diventano offese non gli sfuggiva infatti che gli indumenti intimi di Diotima facevano progressi verso una certa frivolezza mondana e la si era sempre vestita con cura e con riflessione perché la sua posizione sociale esigeva che la fosse elegante ma al tempo stesso non facesse concorrenza alle grandi dame ma adesso nelle gradazioni esistenti fra l'onesta solidità e le libidinose ragnatele e la faceva alla bellezza certe concessioni che prima avrebbe definito indegne di una donna intelligente se però Giovanni se ne accorgeva Tuzzi si chiamava Hans ma per ragioni di stile era stato ribattezzato con un nome adatto al cognome allora Diotima rossiva fino alle spalle e si metteva a parlare della signora von Stein che non aveva concesso nulla nemmeno a unghete dunque il capo di visione Tuzzi non poteva più quando riteneva venuto il momento lasciare gli importanti affari di stato inaccessibili al privato e trovare distensione insieme alla casa ma si sentiva in balia di Diotima e ciò che era stato pulitamente separato tensione dello spirito e salutare rilassamento del corpo doveva essere riportato all'unità faticosa galante un po' ridicola del periodo di fidanzamento come se gli fosse un gallo cedrone o un giovincello versaiolo non è esagerato affermare che talvolta dentro di sé ne aveva addirittura schifo e per conseguenza il successo manifesto di cui sua moglie godeva lo faceva quasi soffrire Diotima aveva per sé l'opinione pubblica e questa era qualcosa che il capo di visione Tuzzi in qualunque caso rispettava tal segno da temere di apparire privo di perspicacia se si fosse opposto con parole energiche o con ironia troppo mordace ai grilli incomprensibili di Diotima a poco a poco si rese conto che essere il marito di una donna importante è una sofferenza tormentosa da celare accuratamente anzi in un certo senso somiglia a una fortuita evirazione egli stava bene attento a non tradirsi andava e veniva avvolto in una nube di cortese impenetrabilità ufficiale senza rumore e senza darne nell'occhio quando da Diotima c'erano visite o riunioni talvolta faceva un'osservazione tecnica o anche ironicamente incoraggiante sembrava trascorrere la sua esistenza in un chiuso amichevole mondo vicino era sempre d'accordo con Diotima spesso a quattro occhi le affidava ancora sempre piccoli incarichi confidenziali favoriva apertamente l'assiduità di Arnheim in casa sua e nelle ore che le importanti cure del servizio li lasciavano libere studiava gli scritti di Arnheim e odiava gli uomini che scrivono come la fonte dei propri mali infatti una delle domande in cui si ramificava il quesito principale per quale ragione Arnheim frequentasse la sua casa era la seguente perché Arnheim scriveva scrivere è una forma speciale del discorrere e gli uomini ciarlieri tutti non li poteva soffrire gli facevano sentire l'irresistibile bisogno di stringere le macelle e di sputare attraverso i denti serrati come un marinaio naturalmente ammetteva qualche eccezione c'erano alcuni impiegati che messi in pensione avevano scritto le loro memorie e altri che collaboravano a giornali la spiegazione di Tuzzi era che un impiegato scrive solo se è malcontento o se è ebreo perché secondo lui gli ebrei erano malcontenti e ambiziosi poi c'erano tecnici famosi che avevano scritto le loro esperienze ma quasi al termine della vita e in America o tutt'al più in Inghilterra del resto Tuzzi non mancava di cultura letteraria e preferiva come tutti i diplomatici le memorie dove si possono attingere motti arbuti e conoscenza della natura umana ma doveva pur significare qualcosa il fatto che oggigiorno non se ne scrivessero più e probabilmente si trattava di un bisogno scomparso non più appropriato ai tempi del nuovo oggettivismo e finalmente si scriveva anche per mestiere questo Tuzzi lo ammetteva senza discussioni purché ci si guadagnasse abbastanza e si rientrasse nella categoria ben definita ormai di poeta anzi era abbastanza fiero di vedere in casa sua le cime di quella professione nella quale egli aveva contato finora gli scrittori sovvenzionati con i fondi del ministero degli esteri però senza star molto a riflettere avrebbe messo anche l'iliade o il sermone sulla montagna che venerava moltissimo fra quelle opere che si spiegano soltanto come prodotti di un mestiere esercitato per amore o per forza ma perché un uomo come Arnheim che non ne aveva nessun bisogno scrivesse così tanto era una cosa dietro la quale Tuzzi incominciava a subodorare qualche altra cosa che non riusciva a scoprire 79 Solomon innamorato Solomon il piccolo schiavo negro o principe negro che fosse aveva intanto persuaso Raquel la camerierina o se si preferisce la piccola amica di Diotima che era suo dovere star bene attenta a tutto ciò che accadeva in casa per poter a suo tempo sventare un fosco disegno di Arnheim più precisamente Solomon non l'aveva convinta ma entrambi vegliavano come congiurati e orrigliavano sempre alla porta quando c'erano visite Solomon faceva spaventosi racconti di messaggeri che andavano e venivano e di enigmatici individui che visitavano il suo padrone in albergo e si dichiarava pronto a far giuramento all'uso dei principi africani che avrebbe scoperto il mistero il giuramento dei principi africani si faceva così Raquel doveva mettere la mano sul petto ignudo di lui fra i bottoni della giubba e quelli della camicia mentre egli avrebbe pronunciato la formula facendo lo stesso con lei ma Raquel non voleva tuttavia la piccola Raquel che vestiva e spogliava la signora e faceva le sue telefonate che mattino e sera maneggiava i capelli neri di Diotima ascoltando nelle auree sentenze quella piccola ambiziosa che era vissuta in cima a una colonna da quando c'era l'azione parallela e tutti i giorni vibrava nella corrente d'adorazione che saliva dai suoi occhi alla donna divina da qualche tempo provava un gran piacere a spiare puramente e semplicemente quella donna stessa attraverso porte rimaste aperte dalle stanze vicine dallo spiraglio di un uscio socchiuso o anche eseguendo con lentezza qualche lavoro nella camera stessa Raquel osservava Diotima e Arnheim Tuzzi e Ulrich e teneva in serbo occhiate e sospiri baciamani parole sorrisi e gesti come i pezzetti di un documento lacerato che non sapeva ricomporre ma soprattutto il buco della serratura aveva un potere che Raquel ricordava stranamente il tempo obbliato in cui aveva perduto l'onore la vista spaziava nell'interno della stanza le persone si muovevano divisa in parti e piani diversi e le voci non erano più incastonate nel filo sottile delle parole ma pulluravano come un suono privo di senso timidità ammirazione e rispetto che legavano Raquel a quelle persone erano lacerati da una frenesia tumultuosa e ciò era sconvolgente come quando l'amante con tutto se stesso penetra all'improvviso così profondamente dentro l'amata che si fa notte davanti agli occhi e dietro la chiusa cortina delle palpebre avvampa la luce la piccola Raquel era accosciata davanti al foro della toppa l'abituccio nero le tirava intorno alle ginocchia alle spalle e al collo accanto a lei ugualmente accoccolato Soliman in livrea pareva una tazza di porcellana verde piena di cioccolata ogni tanto quando perdeva l'equilibrio egli si attaccava alla spalla al ginocchio o alla veste di Raquel con un movimento rapido prima posando per un attimo tutta la mano poi staccando la palma e infine sciogliendo con tenere indugio anche la punta delle dita gli veniva da ridere e Raquel gli premeva la manina morbida sui cuscinetti sodi delle labbra del resto Soliman a differenza di Raquel non trovava interessante il concilio e cercava sempre di sottrarsi al compito di servire gli invitati insieme con lei preferiva venire quando Arnheim faceva visita da solo allora naturalmente gli toccava restare in cucina e aspettare che Raquel fosse di nuovo libera e la cuoca che il primo giorno aveva chiacchierato così bene con lui si arrabbiava perché dopo di allora era diventato quasi muto ma Raquel non aveva mai tempo di fermarsi a lungo in cucina e in sua assenza la cuoca una ragazza sulla trentina aveva per Soliman sollecitudini materne egli le sopportava per un po' egli le sopportava per un po' col suo più altero viso di cioccolata poi salzava e fingeva di aver dimenticato o di cercare qualche cosa volgeva meditabondo gli occhi al cielo si metteva con le spalle alla porta e incominciava a camminare a ritroso come per vedere meglio il soffitto la cuoca prevedeva già quella goffa manovra appena egli salzava e stralunava gli occhi ma per rabbia e gelosia faceva vista di nulla sicché Soliman non si diede nemmeno più molta pena di far quella commedia e finì per ridurla a una forma abbreviata fino al momento in cui sostava ancora sul limitare della cucina chiara ed esitava ancora un attimo con l'aria più innocente possibile la cuoca in quel momento non guardava Soliman come un'immagine scura nell'acqua scura scivolava di schiena nel buio dell'anticamera ascoltava ancora per un secondo per eccesso di prudenza e poi si precipitava con balzi fantastici alla ricerca di Raquel nella casa sconosciuta il capo di visione Tuzzi non era mai a casa e di Anheim e di Otima Soliman non aveva paura perché sapeva che essi avevano orecchi soltanto l'uno per l'altro aveva fatto persino più di una volta l'esperimento di buttare a terra qualcosa ed essi non se ne erano accorti gli era dunque padrone di tutte le stanze come un cervo nel bosco il sangue gli urgeva nella testa come un'impalcatura con diciotto acutissime ramificazioni le punte di quelle corna sfioravano muri e soffitti era abitudine della casa che in tutte le stanze momentaneamente non occupate si tirassero le tende perché i colori dei mobili non fossero sciupati dal sole e Soliman navigava nella penombra come nel folto di una selva si divertiva a farlo con mimica esagerata la sua aspirazione era la violenza quel ragazzo guastato dalla curiosità delle donne in verità non aveva mai avuto rapporti con una donna ma era stato iniziato soltanto ai vizi dei giovinetti europei e i suoi desideri erano ancora così inappagati dall'esperienza così sfrenatamente e disordinatamente ardenti che non sapeva vedendo l'amata se avrebbe voluto placare la libidine nel sangue di Rachel nei suoi baci o nell'agghiacciamento di tutte le vene del proprio corpo dovunque si trovasse Rachel egli compariva improvvisamente ridendo della propria astuzia fortunata le tagliava la strada e nello studio del signore nella camera da letto della signora gli erano sacri sbucava di dietro a tende scrivanie armadi e letti e Rachel si sentiva morire davanti a tanta sfrontatezza e al pericolo sfidato ogni volta che l'ombra di un punto qualunque si condensava in una faccia nera dove splendevano due file di denti bianchi ma appena Solomon si trovava di fronte alla vera Rachel prevaleva la pudicizia la ragazza era tanto maggiore di lui bella come una finissima camicia del padrone che anche a volere non si poteva guastare subito perché era fresca di bucato e insomma così reale che in sua presenza tutte le fantasie impallidivano lei lo rimproverava per la sua malcreanza e magnificava Diotima Arnheim e magnificava Diotima Arnheim e l'onore di collaborazione nell'azione parallela ma Solomon aveva sempre qualche regalino per lei e le porgeva un fiore strappato dal mazzo che il suo padrone aveva mandato a Diotima o una sigaretta rubata in casa o una manciata di confetti presi passando in una bomboniera e stringeva soltanto le dita di Raquel e offrendone il regalo si portava la mano di lei al cuore che nel suo corpo nero ardeva come una torcia rossa in una notte buia una volta Solomon era persino penetrato nella cameretta di Raquel dove ella aveva dovuto ritirarsi con un lavoro di cucito per ordine rigoroso di Diotima che il giorno innanzi durante la visita di Arnheim era stata disturbata dal tramestio in anticamera prima di rinchiudersi agli arresti Raquel lo aveva cercato in fretta senza trovarlo e quando entrò Mest nella stanza eccolo lì seduto sul letto con un sorriso radioso Raquel esitava a chiudere la porta ma Solomon balzò in piedi e la chiuse lui poi si frugò in tasca ne tirò fuori qualcosa vi soffia su per spolverarlo e si avvicinò alla ragazza come un ferro da stiro arroventato dammi la mano ordinò e la gliela stese Solomon aveva nella sua due o tre bottoni variopinti da polsini e si provò ad infilarli nella bottoniera della manica di Raquel Raquel pensò che fossero di vetro pietre preziose e gli dichiarò con orgoglio la ragazza insospettita da quelle parole ritirò il braccio non pensava nulla di preciso il figlio di un principe moro anche se era stato rapito poteva possedere ancora qualche pietra preziosa cucita nell'orlo della camicia come escluderlo ma involontariamente aveva paura di quei bottoni quasi che Solomon le porgesse un veleno e a un tratto tutti i fiori e le chicchie che egli le aveva già regalato le parvero molto sospetti nascose le mani dietro la schiena e guardò Solomon disanimata sentiva di dovergli dire gravi parole era più vecchia di lui e serviva in casa di buoni padroni ma in quel momento le vennero in mente soltanto sentenze come chi all'onor suo manca un momento non vi ripara in anni cento o onestà e gentilezza sopravanza ogni bellezza si fece smorta le parevano monumenti troppo semplici le norme di vita le erano state impartite in casa dei genitori ed era una saggezza severa bella e semplice come antiche suppellettili domestiche ma non serviva a molto perché in quelle massime c'era solo una frase e poi punto e in quel momento ella si vergognava di quella saggezza infantile come ci si vergogna di un vecchio vestito logoro ma non sapeva che il vecchio cofano confinato in un solaio di povera gente dopo cent'anni diventa l'ornamento nel salone dei ricchi e come tutte le persone semplici ammirava una seggiola nuova di giunco perciò cercava nella sua memoria i risultati della sua vita nuova ma quantunque ricordasse moltissime scene d'amore e di terrore lette nei libri che le dava di otima nessuna era così come le sarebbe servita adesso adesso tutte le belle parole i bei sentimenti avevano le loro situazioni particolari e si adattavano tanto poco alla sua quanto chiavi diverse a un'estranea serratura lo stesso accadeva per gli splendidi moniti e insegnamenti che le impartiva di otima rachel si sentiva in un turbine di nebbia incandescente e stava per scoppiare in pianto infine proruppe con violenza io non rubo i miei padroni perché no chiese solima mostrando i denti non voglio io non ho rubato è roba mia esclamò il moretto rachel sentiva che i buoni padroni sono pieni di cure per noi poveretti sentiva affetto per di otima sconfinata ammirazione per arnheim profondo orrore per quei faccendoni ammestatori che una buona polizia chiama elementi sovversivi ma per tutto questo non aveva parole come un enorme carro pieno di erbe e di frutti con fieno e martinicca che non funzionano tutto quel carico di sentimenti si mise a rotolare dentro di lei è mio prendilo ripete soliman afferrando di nuovo la mano di rachel e la tirò indietro il braccio lui voleva trattenerla e incominciò ad andare in collera e quando stava per lasciarla andare perché la sua forza infantile non bastava a vincere la resistenza di rachel che si sottraeva alla stretta con tutto il peso del corpo si chinò impetuosamente e morse come una bestia il braccio della ragazza rachel fece per gridare soffocò il grido e colpì soliman in faccia ma in quel momento egli aveva già gli occhi pieni di lacrime si buttò in ginocchio premette le labbra sulla veste di rachel e piangeva così dirottamente che rachel si sentì sulle cosce il caldo umido di quel pianto restò in piedi perplessa davanti al ragazzo in ginocchioni che le si aggrappava alla veste e le nascondeva la faccia in grembo mai in vita sua aveva provato nulla di simile e accarezzò leggero la testa di soliman passando le dita nel groviglio ispito delle sue chiome 80 si fa conoscenza col generale Stum che compare inatteso al concilio un notevole arricchimento aveva avuto nel frattempo il concilio nonostante il vaglio severo dei partecipanti una sera era comparso il generale e sarà profuso in ringraziamenti a Diotima per avergli fatto l'onore di invitarlo in sala di consiglio egli dichiarò il soldato deve tenersi modestamente in disparte ma poter assistere anche soltanto come muto testimonio a una riunione così cospicua era stato il suo sogno fin dalla giovinezza Diotima senza aprir bocca si guardò intorno cercando il colpevole Arnheim parlava con sua signoria come uno statista con un altro Ulrich con aria indicibilmente annoiata guardava il buffet e pareva contare le torte esposte il fronte offriva il solito quadro di schieramento compatto e non si apriva la minima brezza da un sospetto così singolare altra parte Diotima era sicurissima di non aver invitato il generale o altrimenti doveva supporre di essere sonnambula o di andare soggetta a crisi di amnesia fu un momento sgradevole il piccolo generale era lì e aveva indubbiamente un invito nella tasca dell'uniforme color non ti scordar di me perché l'impudenza di venire senza invito non era concepibile in un uomo della sua posizione d'altra parte di là in biblioteca c'era la graziosa scrivania di Diotima e nel cassetto erano chiusi gli inviti stampati in soprannumero che nessuno tranne Diotima poteva toccare Tuzzi le passò per la mente ma anche questa era una supposizione poco verosimile come l'invito e il generale si fossero incontrati restava per così dire un enigma spiritico e poiché Diotima era un po' incline a credere nelle forze soprannaturali un brivido la scosse dai piedi alla testa non le rimase che dare il benvenuto al generale del resto anche lui si era un po' meravigliato di ricevere quell'invito tardivo perché durante le sue due visite non aveva potuto scoprire in Diotima purtroppo nessuna intenzione di invitarlo e aveva anche notato che l'indirizzo scritto evidentemente da mano servile dimostrava nelle qualifiche inesatte del suo grado e del suo ufficio una trascuratezza che era incompatibile con la posizione sociale di una signora come Diotima ma il generale era un uomo giocondo e poco propenso a congetture strane tanto meno poi soprannaturali pensò che fosse accaduto uno scambio un errore il che non doveva impedirgli di assaporare il suo successo infatti il maggior generale Stum von Bortwer direttore della sezione educazione e cultura militare al ministero degli esteri gioiva schiettamente della missione ufficiale finalmente carpita quando a suo tempo era stata annunziata la grande seduta inaugurale dell'azione parallela il capo di visione lo aveva fatto chiamare e gli aveva detto senti Stum tu che sei uno scienziato ti faccio scrivere una lettera di presentazione e ci vai tu ti guardi un po' intorno e ci racconti che cosa hanno in mente e dopo egli aveva potuto dire quel che voleva ma non essere riuscito a prendere piede nell'azione parallela era una macchia sulle sue note caratteristiche che gli aveva cercato in vano di cancellare con le due visite a Diotima perciò appena ricevuto l'invito era corso di filato dal capo di visione e mettendo graziosamente una gamba davanti all'altra sotto la pancetta aveva annunciato con negligente spavalderia ma col fiato mozzo che l'avvenimento da lui preparato ed atteso si era naturalmente prodotto ah bene disse il Feldmaresciallo Frost von Aufbruch ne ero certo offrì a Stum una seggiola e una sigaretta mise alla porta il segnale luminoso proibito l'ingresso colloquio importante istruì Stum del suo incarico che consistiva essenzialmente in osservazioni e rapporti capisci non vogliamo mica niente di speciale ma tu vai lì il più spesso possibile e mostri che ci siamo anche noi non far parte dei comitati va bene sarà anche giusto ma non essere presenti quando si delibera per così dire un dono morale per il sovrano e capo supremo del nostro esercito no quello non ha senso perciò ho proposto proprio te a sua eccellenza il ministro nessuno può avere nulla in contrario dunque ciao fare cose per bene il Feld maresciallo Frost von Aufbruch fece un cenno amichevole e il maggior generale Stum von Bordwehr dimenticando che un soldato non deve manifestare i moti dell'animo batte gli speroni se così può dirsi come se gli venisse dal cuore ed esclamò ti ringrazio devotamente eccellenza se vi sono borghesi guerra fondai perché non dovrebbero esserci ufficiali amanti della pace in Cacania ce n'erano una quantità dipingevano facevano collezione di coleotteri di francobolli o studiavano storia le molte guardigioni microscopiche e il fatto che agli ufficiali era poribito presentarsi al pubblico con produzioni intellettuali senza il permesso dei superiori dava abitualmente alle loro tendenze qualcosa di personale e anche il generale Stum aveva avuto in passato le sue passioncelle dilettantistiche egli aveva incominciato il servizio in cavalleria ma era un cavaliere da poco mani e gambe troppo munite non si adattavano a dominare una bestia ombrosa come il cavallo gli mancava anche ogni capacità di comando tanto che i suoi superiori solevano dire che se uno squadrone si schierava nel cortile della caserma con le teste rivolte alla stalla invece che con le groppe come accade di solito lui non era già più in grado di farlo uscire dal portone per vendetta il piccolo Stum si era fatto crescere una bella barba castano scura e rotonda era l'unico ufficiale della cavalleria imperiale che portasse la barba in quel modo ma una proibizione espressa non c'era e aveva iniziato una raccolta scientifica di coltelli a serramanico per una collezione d'armi le entrate non gli bastavano ma di coltelli ne accumulò presto un visibilio con o senza cavatappi e lima per le unghie ordinati secondo la forma la provenienza il tipo d'acciaio il materiale del manico eccetera in alti armadi con molti cassettini piatti e cartellini ben scritti e presto venne in fama di scienziato sapeva anche far poesie dall'accademia militare aveva sempre avuto ottimo in religione e componimento e un giorno il colonnello lo fece venire negli uffici del comando del reggimento un ufficiale di cavalleria presentabile non lo diventerai mai gli disse se mettessi a cavallo un poppante e gli ordinassi di comandare lo squadrone non si comporterebbe diversamente da te ma è un pezzo che il reggimento non manda nessuno alla scuola di guerra e lì Stum potresti presentarti tu così Stum si fece due anni meravigliosi alla scuola di stato maggiore della capitale lì si notò che la prontezza che occorre per cavalcare gli mancava anche spiritualmente ma lui non perdeva un concerto della banda militare frequentava i musei e faceva raccolta di programmi teatrali per un poco accarezzò l'idea di rifarsi borghese ma non seppe come attuarla il risultato fu che non lo dichiararono né idoneo né del tutto inidoneo al servizio di stato maggiore passava per poco abile e poco ambizioso ma era ritenuto un filosofo a titolo d'esperimento lo assegnarono per altri due anni allo stato maggiore del comando di una divisione di fanteria e spirato quel tempo egli ormai capitano di cavalleria fu nel gran numero di quegli ufficiali che costituivano la riserva dello stato maggiore e come tali non vengono mai via dal servizio di truppa a meno che non intervengano eccezionalissime circostanze il capitano Stum adesso prestava servizio in un altro reggimento gli veniva riconosciuta ormai una buona cultura militare ma quella storia del poppante e delle sue capacità pratiche anche i nuovi superiori la scoprirono presto il suo fu il curricolo di un martire fino al grado di tenente colonnello ma fin da maggiore egli non sognava più che una lunga aspettativa a metà stipendio per arrivare al giorno in cui sarebbe stato messo a riposo come colonnello ad honores cioè con titolo e uniforme quantunque senza la pensione di colonnello non voleva più saperne di promozioni che nell'esercito avvengono secondo l'ordine di precedenza come un orologio insopportabilmente lento né delle mattine in cui a levar del sole si era già di ritorno dalla piazza d'armi mandati al diavolo da superiori e inferiori e ci si rifugia alla bouvet con gli stivaloni impolverati per aggravare con bottiglie vuote il vuoto della lunga giornata né delle serate coi colleghi delle storie del reggimento e di quelle diane che passano la vita al fianco dei loro consorti ripetendo nella scala dei gradi in tono minore appena percepibile ma inesorabilmente preciso e argentino e non voleva più saperne di quelle nottate in cui la polvere il vino la noia i chilometri percorsi e il tema obbligatorio di tutte le conversazioni il cavallo eccitavano gli ufficiali scapoli e ammogliati e a quei festini da casa chiusa dove si mettono le donnine a gambe all'aria per versare loro champagne nelle sottane ed l'eterno ebreo di ogni maledetto buco di guarnigione galiziana una sorta di piccolo magazzino sbilenco dove si poteva trovare di tutto a credito con interesse dall'amore al sapone dei finimenti e si faceva anche mercato di ragazze tremanti di rispetto paura e curiosità suo unico conforto in quei tempi era l'accurata collezione di coltelli e di cavaturaccioli e anche di questi l'ebreo ne portava molti a quel picchiatello di un ufficiale lustrandoli con la manica prima di posarli sul tavolo con aria solenne come se fossero oggetti di scavo preistorici alla svolta in attesa era giunto quando un compagno del corso della scuola militare si era ricordato di lui e aveva proposto che fosse comandato al ministero della guerra dove nella sezione educazione e cultura occorreva un aiuto per il direttore che avesse un'eccezionale intelligenza civile appena due anni dopo la sezione veniva affidata a Stum che intanto era stato promosso colonnello era diventato un altro da quando aveva sotto di sé una seggiola in luogo dell'animale sacro alla cavalleria passò poi generale e poteva essere abbastanza sicuro di diventare ancora Feld maresciallo da un pezzo si capisce si era fatto radere la barba ma con l'età la fronte gli si faceva sempre più spaziosa e la tendenza alla pinguedine gli conferiva un certo aspetto di cultura universale adesso era anche felice e la felicità aumenta la capacità di rendimento era fatto per la gran vita e tutto lo dimostrava negli abiti di una donna eccezionalmente elegante nell'audace mancanza di gusto dell'allora nuovo stile architettonico viennese nella variopinta opulenza dei grandi mercati nell'asfalto grigio bruno delle strade in quella molle aria bituminosa piena di miasmi di odori e di profumi nel frastuono che si spezzava un istante per lasciar uscire un solo rumore nell'immensa varietà dei borghesi e perfino nei tavolini candidi dei ristoranti che sono così individuali pur avendo tutti innegabilmente lo stesso aspetto in tutto ciò vi era una felicità che ronzava negli orecchi come tintinnio di speroni era una felicità che i civili possono provare soltanto quando fanno una gita in campagna non si sa come ma si passerà la giornata tra il verde felici e con una volta qualunque al di sopra del capo in tale sentimento era compreso quello della propria importanza dell'importanza del ministero della guerra dell'importanza della cultura dell'importanza di tutti gli altri uomini ed era così forte che Stum da allora non aveva più pensato a frequentare teatri o musei era qualcosa di cui si ha veramente coscienza ma che impregna tutto dai galloni d'oro fino alla voce delle campane ed è come una musica senza la quale la danza della vita si arresterebbe di colpo perbacco ne aveva fatto di strada pensava Stum trovandosi ora per soprammercato anche lì in quell'illustre consesso dello spirito c'era anche lui era l'unica uniforme in un ambiente tutto intellettualità e c'era un'altra cosa che lo faceva stupire ti si figuri l'azzurro globo celeste un po' schiarito nel colore non ti scordai di me della difisa di ufficiale è tutto fatto di felicità di importanza di misterioso fosforo cerebrale interiormente luminescente e nel centro di quella sfera il cuore del generale e su quel cuore come Maria sulla testa del serpente una donna divina il cui sorriso è intessuto con tutte le cose ed è la segreta gravitazione di tutte le cose così si ottiene all'incirca l'impressione che Diotima aveva fatto sul generale Stum von Bordwer fin dal primo momento quando la sua immagine gli aveva riempito gli occhi che giravano lenti in fondo il generale Stum aveva poca simpatia per le donne come per i cavalli le sue gambe tozze e un po' corte non si sentivano a loro agio ingroppa a un corsiero e quando gli toccava parlare di cavalli anche nelle ore di libertà la notte sognava di essere piagato fino all'osso e di non poter più scendere di sella così pure il suo amore delle comodità era incompatibile con gli eccessi amorosi e poiché il servizio lo stancava già abbastanza egli non aveva bisogno di sfogare le forze esuberanti attraverso notturne valvole di sicurezza ai suoi tempi non era mai stato un guastafeste ma se passava la sera con i suoi camerati invece che con i suoi coltelli ricorreva di solito a un ripiego sagace perché il suo istinto all'equilibrio fisico gli aveva presto insegnato che dallo stadio eccessivo del bere si può passare rapidamente a quello sonnolento ed egli lo considerava molto più comodo che i pericoli e le delusioni dell'amore quando poi si ammogliò e dovette mantenere due figli oltre l'ambiziosa consorte capì ancora meglio quanto erano state assennate le sue abitudini di vita prima di soggiacere al fascino del matrimonio a cui lo aveva indotto senza dubbio quel che di poco militare è associato all'immagine di un guerriero sposato ma allora si era sviluppato vigolosamente in lui un ideale femminile extraconiugale che doveva esistere già prima nel suo subcosciente e si esprimeva in una blanda adorazione per donne che lo intimidivano e con ciò lo dispensavano da ogni sforzo il ritratto dei femminili che quando era ancora a scapolo ritagliava dai giornali ma era soltanto ramo secondario della sua attività di collezionista avevano tutti quel tratto caratteristico ma lui non se ne accorgeva e solo l'incontro con Diotima destò in lui una vera esaltazione a parte l'impressione della sua bellezza egli appena l'aveva udita definire una seconda Diotima si era precipitato a cercare nell'enciclopedia che diavolo fosse questa Diotima ma non l'aveva capito bene e servò soltanto l'idea che era legata alle alte sfere della cultura civile di cui egli purtroppo nonostante la sua posizione sapeva ancora ben poco e il predominio spirituale del mondo si confuse per lui con la grazia corporale di quella donna oggi che i rapporti fra i sessi si sono tanto semplificati sarà bene osservare che questo è il sentimento più eccelso a cui un uomo possa elevarsi le braccia del generale Stum si sentivano troppo brevi per cingere la maestosa opulenza di Diotima mentre il suo spirito sentiva la stessa insufficienza verso il mondo e verso la cultura così che in tutti gli eventi c'era un amore mansueto e nel corpo rotondetto del generale qualcosa della natante sfericità del globo celeste poco dopo essere stato congedato da Diotima Stum von Borgwer fu ricondotto verso di lei dalla sua adorazione si mise a pochi passi dalla donna amata tanto più che non conosceva nessun altro e ne ascoltò la conversazione mi sarebbe piaciuto prenderne nota perché non avrebbe mai creduto che si potesse giocherellare sorridendo con tanta ricchezza spirituale come con una collana di perle se non avesse sentito con i suoi orecchi i discorsi che Diotima rivolgeva alle varie celebrità ma poi lo sguardo di lei che sarà voltata un paio di volte con aria poco benigna gli rappresentò la scorrettezza del suo contegno e lo cacciò via attraversò un paio di volte la casa affollata beve una coppa di vino e stava cercandoci una posizione decorativa ridosso ad una parete quando scoperse Ulrich che aveva già visto alla prima seduta e quell'attimo illuminò la memoria perché Ulrich era stato un estroso irrequieto tenente in uno dei due squadroni che il general Stum aveva mitemente comandati quando era tenente colonnello un uomo come me pensò Stum e così giovane è già arrivato tanto in alto si precipitò verso di lui e dopo che ebbero confermato il reciproco riconoscimento e conversato un poco sui cambiamenti intercorsi Stum additò l'assemblea e disse una splendida occasione per me di conoscere i più importanti problemi civili del momento vedrai e stupirai signor generale gli rispose Ulrich il generale che cercava un alleato gli strinse calorosamente la mano tu sei stato tenente nel nono reggimento Ulani disse in tono molto espressivo e un giorno sarà considerato un grande onore per noi anche se gli altri non lo capiscono ancora come lo capisco oi o a un i a un o a Grazie.